Buongiorno, signori e signori, è il mio piacere di aprire il 10th GMO Free Europe. Ho anche avuto il piacere di essere membro di questo Parlamento quando il primo atto legislativo sugli OGM è stato discusso tra l'84 e l'85, atto che è stato poi varato nel 1999. Oggi discuteremo di tematiche che mettono in discussione tutto il principio, tutta la struttura precauzionale dell'ingegneria genetica nel settore agricolo e dell'alimentazione. Questo è il tema della conferenza odierna e sono ben lieto di dare la parola all'onorevole Sara Wiener, che è il nostro anfitrione, la conoscete, non è solamente una cuocastellata, è un'agricoltrice, è anche membro del Parlamento per i verdi austriaci. Posso parlare tedesco? Parlerò austriaco quindi, perché siamo al Parlamento europeo e quindi onoriamo anche la biodiversità delle lingue. Perciò vorrei passare alla mia lingua madre, parlando austriaco, dandovi un caloroso benvenuto a questa riunione pomeridiana. Grazie di essere qui per trattare di un tema molto importante, grazie alla nostra ministra federale, Leonore Gevessler, per l'ambiente che è qui, per discutere di questo tema che ritiene altrettanto importante, grazie anche a te Benny Herlin e grazie a tutti i partecipanti che sono collegati da lontano, che sono qui in questa relativamente piccola sala per discutere di un tema che avrà un impatto sul nostro futuro e a cui vogliamo prestare attenzione. Farò una presentazione, voglio essere breve perché questo pomeriggio il programma è carico con tantissimi esperti, con tanti panel. Vorrei semplicemente spiegare per quale motivo organizziamo questa conferenza e per quale motivo la nuova tecnologia genomica sia al centro dell'attenzione e quali siano le problematiche e le difficoltà, perché qui non si tratta di chiederci se stiamo trattando di una questione ideologica, ovvero se la tecnologia genomica sia salvatrice del mondo e della produzione alimentare o meno. La questione è spiegare per quale motivo, se ci sarà un atto legislativo in questo senso, questo atto legislativo sia molto problematico e se abbia senso, ne abbiamo discusso alla conferenza stampa, prima affronteremo volentieri queste tematiche anche qui, per l'appunto tratteremo di questo tema di un eventuale atto legislativo. Quando e se verrà presentato questo atto legislativo verrà eroso un principio fondamentale, la stella polare dell'Unione Europea, ovvero il principio di precauzione. Dobbiamo essere chiari sul senso che questo ha, sull'impatto che ha questo approccio non-chalant verso il principio di precauzione per il quale abbiamo lottato strenuamente. Dobbiamo capire qual è l'impatto dell'abolizione di questo principio precauzionale per autorizzare una tecnologia, una tecnica che è discutibile. Ci sono vari punti da affrontare. La trasparenza della tecnologia genetica, trasparenza che manca perché non ci sono delle definizioni obbligatorie sul come deve essere definita la tecnologia genetica. E poi c'è un problema anche della contaminazione degli altri campi, che siano campi a colture tradizionali, liberi da OGM o se siano campi biologici, con colture biologiche. Questo è molto importante. Colture che non possono proteggersi dalla contaminazione perché non si può sapere se il vicino, l'agricoltore vicino, utilizza OGM. OGM è un problema che non è stato ricercato. Non ci sono infatti dei metodi che ci impongano una definizione su quello che c'è sul suolo. Sapete che non ci possono essere delle prove sull'OGM, si dice, ma in realtà ci sono brevetti. Se non ci fosse una prova, questi brevetti non sarebbero attribuiti. Invece i brevetti esistono dagli anni Ottanta. In realtà c'è un altro problema, la monopolizzazione dei brevetti. E questo ha un impatto sul nostro patrimonio, sul patrimonio delle nostre sementi, delle nostre colture. Negli ultimi 50 anni il 90% delle specie di sementi e di colture sono andate perse. E se vediamo quante limitazioni ci sono già state con gli OGM, quanta perdita c'è stata per quanto riguarda colture e derrate alimentari, e di quanta perdita di resilienza c'è stata anche per le piante che crescono in altura come in Austria, beh, possiamo dire che dinanzi a questa crisi, dinanzi a questa crisi della biodiversità, noi cediamo liberamente questa biodiversità, dandola nelle mani di grandi multinazionali che decidono di tutto usando gli OGM e definendo che sementi esisteranno. E poi la persistenza dei pesticidi. Si dice che sono necessari pesticidi inferiori. In realtà non è così. Per esempio in Brasile c'è stato un aumento di tre volte tanto dell'uso dei pesticidi. Con la monopolizzazione e i brevetti aumentano anche i prezzi delle sementi per gli agricoltori e questo ha anche un impatto indiretto per noi consumatori. E anche quello che c'è sul nostro piatto, la nostra scelta viene limitata. Ci sono veramente tanti temi che potremmo trattare qui. Volevo ennuclearne solamente alcuni che mi stanno particolarmente a cuore. Sicuramente poi scenderete nei dettagli, sentirete dati e cifre da altri partecipanti di questa conferenza pomeridiana. Auguro a tutti dei buoni lavori e spero che si possa raggiungere un accordo. Perché a livello societario ci possa essere una discussione perché ci sia una soluzione solida e democratica e valida per tutti perché tutti abbiano la possibilità di mangiare come vogliono anche scegliendo cibi non OGM. Questo deve essere possibile anche in futuro e aspetto impaziente i contributi. E vi ringrazio per la vostra attenzione che spero rimanga tale nel prossimo ore. Grazie Sara. Leonore Gewessler, se mi posso esprimere così, lei ha dato là un po' un movimento critico agli OGM in Europa e al Consiglio e quindi per noi è un grande onore accoglierla qui oggi. Ci sono vari blocchi, il blocco nazionale, regionale, poi scendiamo a quello comunale degli enti locali e delle persone attive in loco che sono qui oggi riunite. Le do immediatamente la parola per presentare questo tema di estrema attualità. Prego, ministro Gewessler, grazie, anch'io continuo in tedesco, grazie per queste calorose parole di benvenuto e per questa presentazione. Devo ribaltare un po' le cose perché è per me un onore iniziare con la prospettiva nazionale al Parlamento europeo, non è una cosa da dare per scontato. Grazie quindi per questo motivo. La conferenza, rendo omaggio a Benny, Herlin e a tutti coloro che hanno organizzato, è una conferenza che è nata più di vent'anni fa e come oggi anche allora l'obiettivo era quello di avere delle culture libere da OGM, preservandole. Ho parlato brevemente con Martin Häusling, a volte siamo frustrati perché riprendiamo delle discussioni che abbiamo affrontato venti anni fa e questa è ancora una necessità e quindi bisogna continuare a lottare per preservare un'agricoltura libera da OGM, molto repentaglio in questi mesi proprio a fronte degli ultimi sviluppi dell'Unione europea. La proposta della Commissione europea, se dovesse essere attuata così com'è, porterebbe a una deregulation di molti OGM generati con nuove tecnologie genetiche. I colleghi in Austria, assieme a me, erano sempre dell'idea che non ci chiudiamo dinanzi alle nuove tecnologie, offrono anche opportunità, però l'attuazione delle nuove tecnologie, in particolar modo quando parliamo di agricoltura e di ambiente, sono sempre collegate a pericoli, soprattutto per le tecnologie più recenti e gli OGM, le tecnologie genetiche sono tecnologie recenti. Ecco, per queste tecnologie è fondamentale applicare il principio di precauzione, questo è fondamentale, Sara Wiener ha parlato di questo principio come della stella polare o del faro di riferimento per noi, non va abbandonato. L'obiettivo del regolamento dovrebbe rispettare requisiti di standard di sicurezza per l'ambiente e per i cittadini, quindi ci devono essere delle verifiche molto approfondite, mentre adesso in questa nuova proposta c'è un esercizio di verifica molto limitato e quindi il principio di precauzione non può essere pienamente attuato. C'è un altro elemento molto importante che ha sollevato l'onorevole Wiener, la libertà di scelta degli agricoltori ma anche dei consumatori, questo è un punto centrale per noi. Verrebbe molto limitato con l'attuazione di questa normativa, la libera scelta può essere garantita solamente con un'etichetta chiara dalle sementi fino al prodotto al supermercato, solamente così si può garantire una libera scelta e solamente così si può garantire che io in quanto consumatrice agricoltore posso operare una scelta libera. Questo tema è molto importante, è molto importante anche tutelare la biodiversità, tema che è collegato strettamente alla produzione alimentare, che ha un impatto sui consumatori. Ovviamente in futuro c'è un'esclusione per le culture OGM. La Commissione non prevede delle misure di protezione per la produzione biologica e invece delle misure di coesistenza per la produzione biologica sono fondamentali perché possono essere possibili delle regioni dove ci sono culture biologiche, vegetali, libere da OGM. Invece con questa proposta legislativa ci potrebbe essere una riduzione della protezione della produzione biologica e questo potrebbe portare anche a distorsioni di concorrenza. La proposta della Commissione, secondo noi, lo devo dire chiaramente, anche se ho estrapolato solamente tre punti, la proposta della Commissione in questa forma per noi non è accettabile. Bisogna garantire la sicurezza per i consumatori, per i cittadini, per gli agricoltori perché ci possa essere una produzione libera dagli OGM. Questi punti, i tre punti che ho sollevato, non vengono sufficientemente coperti o non vengono coperti per niente nell'atto legislativo proposto e quindi per noi questa è una linea rossa. Noi diciamo che questa proposta non è accettabile. Ci sono molte deroghe per il vegetalio OGM, ci sono criteri di sicurezza che si basano solamente sulle caratteristiche della pianta e l'interazione della pianta nell'ambiente, ma in questo modo non si attua il principio di precauzione. Poi c'è anche una limitazione dell'obiettivo di etichettatura che non garantisce una libera scelta. tutta la responsabilità viene addossata sul produttore. Mancano le regole per l'etichettatura, ma anche per la tracciabilità. Sono i governi locali a doversi assumere delle responsabilità, ma non ci sono delle regole comuni armonizzate e quindi si creano condizioni di produzione diverse anche all'interno dell'Unione Europea. Il divieto previsto per i Paesi membri rispetto alla normativa attuale di escludere parte delle colture da una produzione OGM è un divieto che si spinge molto in là. Si tratta di un rischio per la lotta alla sussistenza di quelle regioni che vogliono essere libere da OGM. Perdiamo veramente strumenti fondamentali per la nostra politica. Risultati che hanno chiesto anni di negoziati che vengono in questo modo depotenziati completamente. Quindi noi tutti, con i colleghi, dobbiamo attivarci e impegnarci con tutte le nostre forze per l'appunto perché in Consiglio questa proposta legislativa venga cambiata e vengano colmate le carenze. Questo è assolutamente necessario per garantire che ci siano regioni libere da OGM e perché la storia di successo, non dobbiamo dimenticarcelo nonostante la crisi acuta, perché questa storia di successo che ha garantito che ci fossero regioni libere da OGM possa essere portata avanti e quindi dobbiamo impegnarci ancora al Consiglio e anche qui. Grazie. Rimaniamo in un ambito di lingua tedesca dando il benvenuto a Danka Dobbser che è collegata online e che ci raggiunge dalla Bassa Sassonia dove è sottosegretario al Ministero dell'Ambiente della Bassa Sassonia. È uno dei 64 governi regionali esenti da OGM nell'Unione Europea quello della Bassa Sassonia quindi è con grande piacere che sentiremo da loro. Anka è presente? No. Sembra non essere collegata per il momento. Sembra che stia arrivando dice il moderatore buongiorno benvenuta Can you hear me now? Mi sentite? Chiede la sottosegretaria chiedo scusa per le difficoltà tecniche Buonasera a tutti anche se anch'io parlerei tedesco come madrelingua preferirei fare il mio intervento in inglese visto che ho preparato le note in inglese grazie per il vostro invito all'evento odierno e un caloroso benvenuto a tutti i membri del panel e a tutti gli ospiti in particolare grazie a lei Benny Harland per l'organizzazione della conferenza e volevo poi anche salutare in modo particolare la signora Gewessler cara Leonore è veramente un piacere parlarci a una conferenza tanti anni dopo che ci eravamo prima incontrate a Bruxelles mi dispiace veramente non poter essere presente di persona con voi a Bruxelles oggi un caloroso saluto anche a Sara Wiener Martin Heusen Christophe Clergeau e Thierry Metz grazie a tutti voi per l'organizzazione e per la scelta di tema così importante da dibattere oggi sono rieta di avere occasione di parlarvi a nome dei governi regionali innanzitutto portando i saluti del nostro ministro Christian Maier per me per il ministro Maier e per me le questioni OGM sono questioni di cui ci siamo già occupati anche nelle nostre posizioni precedenti Christian Maier infatti era stato ministro all'agricoltura della bassa Sassonia dieci anni fa e oggi è ministro per l'ambiente io personalmente ho lavorato invece sull'agricoltura e la protezione dei consumatori per una decina di anni prima di essere nominata segretario di Stato per l'ambiente e la protezione del clima e le politiche energetiche lo scorso novembre e questo per la bassa Sassonia che è una delle più grandi regioni agricole della Germania quindi per noi far parte di questa rete è particolarmente importante il motivo per cui non ho potuto recarmi a Bruxelles è che avevo diverse riunioni importanti sia a Berlino che in bassa Sassonia questa settimana ma mi auguro davvero che in una prossima occasione potrò incontrarvi di persone oggi questa decima conferenza per un'Europa libera da OGM è un buon momento per rivedere il passato nel 2013 la bassa Sassonia era una delle 16 regioni in Germania che ha aderito alla rete delle regioni esenti da OGM europea e aderendo a questa rete ci siamo impegnati verso gli obiettivi della carta di Firenze e quelli di un'agricoltura esente da OGM per ricordarvi quali siano i principi gli obiettivi principali per questa carta sono la protezione delle sementi intese per l'agricoltura esente da OGM e da contaminazione di organismi geneticamente modificati e poi la richiesta che le regioni europee stesse possano definire le aree o parti delle regioni che vogliono definire come esenti da OGM questo è importantissimo per noi come governo regionale la bassa Sassonia segue una strategia di tolleranza zero per raggiungere gli obiettivi della carta e l'uso dell'ingegneria genetica non è consentito su terre di proprietà dello Stato della bassa Sassonia e devo dire che il nostro Stato è proprietario titolare di parecchie zone agricole quindi grosse fette di terreni in Germania a parte la bassa Sassonia gli stati federali del Badenburgo Baviera Brema Brandenburgo Hamburgo Assia Mecklenburgo Pomerania Occidentale Vestfalia Renania del Nord Renania Palatinato Starland Schleswig-Holstein e Turingia hanno già aderito nel frattempo speriamo che si aggiungano anche altri e intanto 30.000 agricoltori in Germania si sono impegnati a lavorare senza l'uso di OGM più di un milione di ettari di terre agricole in Germania oramai fa parte di una regione o di un'iniziativa esente da OGM e inoltre più di 300 comuni si sono impegnati per un'agricoltura esente da OGM e vietano la coltivazione di OGM sulle terre che mettono a disposizione con affitti considerando queste ambizioni la Commissione Europea ha fatto una recente proposta per un regolamento sulle piante ottenute da certe nuove tecnologie genetiche e questo non accettabile per noi per una serie di motivi secondo le proposte della Commissione Europea le piante prodotte con l'aiuto delle nuove tecnologie genomiche saranno divise in due categorie in particolare per quelle piante che rispettano i criteri di equivalenza con le piante cosiddette convenzionali oramai ci dovrebbe essere una forte deregolamentazione e non appena una pianta viene classificata come una pianta cosiddetta NGT di categoria 1 la legislazione OGM non si applica e queste piante vanno considerate piante coltivate in modo convenzionale quindi la coltivazione si può svolgere senza limiti le piante di categoria 1 NGT non devono passare una procedura di approvazione con valutazione del rischio e di impatto ambientale i rischi quindi per l'ambiente e la salute vengono trascurati e non si fanno indagini su effetti indesiderati o secondari si prevede che l'unica cosa obbligatoria sarà quella di etichettare queste sementi tutte le piante NGT delle categorie 2 e tutti questi prodotti che hanno delle modifiche genomiche più compresse continueranno invece ad essere sottoposte ai requisiti della legislazione unionale sulle OGM a meno di essere esentati dal regolamento quindi continueranno ad essere oggetto di tracciabilità e di etichettatura secondo le norme e il quadro normativo OGM per l'Unione naturalmente le piante ottenute con l'uso di nuove tecnologie genomiche NGT sono piante modificate geneticamente quindi per la produzione biologica che è un settore enorme anche qui nella bassa Sassonia non è consentito l'uso di piante NGT di nessuna delle due categorie e nemmeno loro sottoprodotti ma la coesistenza di misure per prevenire la miscela di varietà di piante NGT con varietà biologiche o convenzionali sono da prendersi negli stati membri e come una delle 16 regioni in Germania con altre poi nell'Unione Europea noi continuiamo a cercare una diversa impostazione un diverso campo d'azione qui ce n'è uno ma è molto limitato gli stati membri dell'Unione Europea hanno la possibilità di limitare o vietare la coltivazione di OGM nel proprio territorio questo però non si applica alle piante con le nuove tecnologie genomiche quindi NGT e non c'è pertanto possibilità di un opt out di scegliere di non aderire e quindi non c'è libertà di scelta per gli stati membri la volontà dei consumatori non è presa sul serio dal nuovo regolamento nella sesta indagine sulle conoscenze rispetto alla natura dei tedeschi svolta a fine 2019 l'81% dei 2000 eroti rispondenti ha votato per un divieto sull'ingegneria genetica in agricoltura e la maggioranza 58% dei consumatori in Germania è contro un abbassamento delle norme sull'ingegneria genetica queste indagini mostrano chiaramente che la maggioranza dei consumatori non vuole un intervento genetico negli alimenti che consuma nei campi e nemmeno tra gli animali la maggioranza vuole criteri rigorosi per la sicurezza e la valutazione del rischio e chiara etichettatura posso garantirvi che noi continueremo a lottare per un'Europa esente dagli OGM in bassa Sassonia nell'accordo di coalizione il nostro governo e i partiti leader cioè socialisti democratici e verdi si sono impegnati in modo chiaro a mantenere la bassa Sassonia esente da OGM anche in futuro e per continuare a garantire l'agricoltura esente da OGM in bassa Sassonia facciamo una serie di richieste l'attuale legge sull'ingegneria genetica in Europa deve essere preservata e insieme a questa anche le valutazioni di impatto e di rischio la tracciabilità è impossibile se non c'è normativa e per garantire la libertà di scelta dei consumatori l'attuazione dell'attuale obblighi di etichettatura vigente deve essere mantenuta noi chiediamo questo per non mettere in pericolo l'agricoltura convenzionale esente da OGM e quella biologica noi continuiamo a chiedere che si faccia una normazione rigorosa con regole coesistenti che mirino a proteggere l'agricoltura e a mantenerla esente da OGM come governo di uno Stato noi siamo convinti che l'ingegneria genetica non ha contribuito ne contribuirà a dare soluzioni rispetto a perdita di biodiversità e crisi climatica e siamo molto lieti di sentire che l'Austria sia al nostro fianco in questa battaglia e in particolare che i partecipanti all'evento odierno condividano questi obiettivi con noi e sono quindi molto interessata e curiosa di sentire la discussione le vostre osservazioni e i vostri interventi e vi chiedo scusa perché dovrò lasciare la conferenza alle 16 perché ho altri incontri imprescindibili ma vi ringrazio per la vostra attenzione e per lo sforzo comune per un'Europa esente da OGM auguro a tutti voi buon lavoro e tanto successo grazie grazie mille Anca Dobsler rimaniamo in Germania andando in Baviera per la precisione con Georg Scheitz che è vice commissario di distretto di Andex famoso per il monastero e la straordinaria birra e come dicevo vice commissario della contea di Stanberg che si è dichiarata esente da OGM molto tempestivamente e che ha ribadito questa sua situazione e siamo molto orgogliosi di avere la sua partecipazione qui oggi grazie può parlare naturalmente tedesco se lo desidera sì grazie mille per avermi dato la possibilità di intervenire qui oggi io già da molti anni seguo la questione delle regioni libere o esenti da OGM e da coltivazioni OGM io stesso sono il vice commissario di questa circoscrizione sono anche sindaco di questa nostra bellissima regione molto agricola già nel 2009 Stanberg in collaborazione con l'economia locale aveva espresso le sue posizioni rispetto agli OGM esprimendoci in modo chiaro purtroppo ci sono dei suoni di sfondo che rendono molto difficile la comprensione dell'oratore per gli interpreti che devono tradurlo in modo corretto quindi ci scusiamo ma non interpreteremo Miettagsbeschluss gefällt dove dieser actu discли aus задuna 2009 gemellico s Hundredse l's le C lg l' 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 Grazie a tutti. 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 Io spero che questo possa essere sentito dal PPE e anche dall'Onorevole Weber che è nello stesso partito del signor Scheitz in modo che capisca che non è sempre solo una questione di ideologia ma qualche volta si tratta semplicemente di trovare un'intesa tra agricoltori con i consumatori all'interno dei comuni e a livello regionale. Io credo che le discussioni sugli OGM siano molto diverse se si analizza a livello municipale e si confronta il discorso nei paesini quando gli agricoltori che siano biologici o lavorano in modo convenzionale e parlano tra di loro rispetto al momento in cui invece sentiamo i grandi discorsi nella Commissione Agricoltura del Parlamento o alla Commissione per l'Ambiente. E del resto ringrazio tutti sentitamente per aver rispettato davvero i tempi proprio perché questo ci consense di ampliare la discussione immediatamente. Abbiamo qui con noi rappresentanti da diverse regioni, paesi, ONG e altre organizzazioni che rappresentano i cittadini qui in aula e questa è una tematica di cui abbiamo già discusso ieri in una cerchia più ristretta. Ma credo che per molti di noi questa sia l'inizio di una battaglia, devo chiamarla così, che sarà da portare avanti nei prossimi mesi. E quindi ora con piacere do la parola a chi desidera intervenire, non so chi sarà il primo a chiedere la parola dal pubblico. Non abbandonatemi, vi prego, qualcuno si faccia avanti. Ecco, prego signora. Magari se si può presentare e dirci da dove viene, da dove arriva. Ci c'è Rappos dai Paesi Bassi. Essenzialmente produco sementi biologici. Biologiche. Vorrei sapere perché non ci sono dei marcatori che vengono aggiunti ai geni modificati. Perché in caso di contaminazione, questo consentirebbe di capire da dove arrivano le contaminazioni. E questo potrebbe anche forse consentire di far pagare chi inquina e non chi è stato inquinato. Sementi di mais, produceva la signora. L'interprete si scusa, non l'aveva sentito bene. Il moderatore. Tutti siamo interessati ad avere una risposta a questa domanda. Nel prossimo panel penso che ci saranno alcuni scienziati che forse si soffermeranno su questo tema e approfondiranno. La mia risposta molto poco scientifica è che non c'è nessuna intenzione di passare a questa soluzione. È ovvio che potrebbe essere seguita. Ma io credo che l'intenzione della deregolamentazione sia quella di lasciare che queste tecnologie se ne vadano in giro per la natura senza essere rintracciate. Però forse Mute ha una risposta? No. Io avrei un'altra domanda per la verità. Normalmente qui parlo inglese ma oggi parlo in tedesco. Una domanda alla ministra Weisler. Se la proposta della Commissione dovesse passare così come l'abbiamo vista adesso, ci sono possibilità che l'Austria si rivolga alle corti, presenti ricorso perché non tutela l'ambiente, perché mette in pericolo tutto il settore? E poi non so se il signor Scheitz è ancora collegato e ci sente perché avrei una domanda per lui. Se ho capito bene, lei dice che ci sono altri lender o altre zone che potrebbero fare le stesse proposte. È una cosa che riguarda la Baviera soltanto o che riguarda altre circoscrizioni o altri agricoltori al di là della Baviera? Le rispondo e passo all'inglese proprio per mantenere la diversità anche linguistica, come diceva Sara Wiener. Prima di tutto noi ci presenteremo alla battaglia, come diceva anche il moderatore prima. C'è ancora del lavoro da fare e naturalmente c'è una spinta dalla Presidenza spagnola, si dovrebbe andare avanti rapidamente. Comunque le prossime settimane, i prossimi mesi sono essenziali e ci stiamo concentrando molto su questo. Io so che l'Austria ha la reputazione del paese che fa lo sforzo in più, come sapete spesso. Io ho citato in giustizia, non so esattamente come si dica, comunque ci siamo rivolti ai tribunali contro la Commissione per la tassonomia, quello che ci sembra un'ipocrisia verde della tassonomia, dove è stato incluso poi i combustibili fossili, nucleari, una serie di punti. Quindi noi siamo sempre stati molto coerenti come Austria su questi temi, ma intanto ci interessa vedere come progredire nei prossimi mesi. Grazie, signor Scheitz, vedo che ha alzato la mano per intervenire, possiamo collegarlo? Di nuovo non sarà interpretato per via del suono pessimo. Beh, è un po' quindi non è un giusto. Le chiamo in modo in cui, come ho ministri, queste cose siano risponde, e sono state state attraverso e anche in varietta. Sono state state in 2009 anche in particolare in minori regione, qui in questo modo in cui sono stata riuscita e la tua posizione, però ho visto anche l'interno di oggi, E' un'ottimità, ma la loro vanno, ma le loro vanno s'attivate, ma la loro vanno s'attivate e le loro vanno s'attivate. Grazie. Grazie. Prego. Prima il pulsante qui. Sono Marquis Giusta. Sono da Organic Norway, ma qui oggi rappresento la rete OGM Norvegia. Siamo un'alleanza di 18 organizzazioni, organizzazioni giovanili, ambientaliste, settore biologico, includiamo anche i sindacati degli agricoltori. Noi siamo uniti e fermi nella reazione di questa proposta che riteniamo inaccettabile. Quindi questa non è una domanda, ma è un in bocca al lupo per ottenere il meglio al di fuori dell'Unione Europea. Una domanda, quale sarebbe l'impatto sulla normativa norvegese, fate parte dell'EFTA? Quale sarebbe l'impatto della normativa europea sulla situazione normativa norvegese? Sono Ayana Botman, coordino la rete. Noi pensiamo che sarebbe impossibile mantenere l'atto contro gli OGM in vigore ora in Norvegia. Sarebbe difficile mantenere la nostra definizione se passasse la proposta della Commissione. Quindi veramente siamo molto impegnati e interessati che l'Unione Europea vinca questa battaglia. Sì, grazie, faremo del nostro meglio. Lavoro per il deputato dei Verdi al Parlamento tedesco Karl Berg che in Baviera vorrei fare un riferimento alle decisioni e alle proposte di Steinberg. ci sono state delle iniziative simili per mantenere delle regioni esenti dagli OGM. Quindi è veramente positivo sentire che Steinberg abbia la stessa posizione. Vorrei fare un paio di domande al dottor Scheitz. Gli vorrei chiedere che cosa si può fare perché anche altri comuni adottino decisioni simili. e poi un'altra domanda, come percepisci la discussione all'interno della CSU in vista anche della campagna elettorale bavarese e che impatto potrebbe avere la posizione della CSU sulla CDU? eventualmente grazie. 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 Grazie a tutti. 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 verändern und einfach nur Augenmerk darauf legen, wie die CSU wird. Ich bin ja vorgestellt worden als Mitglied der CSU und ich kann Ihnen sagen, ihr wird sehr unterschiedlich auch gedacht. Ich denke, das ist aber nicht nur in CSU-Kreisen so. Sie merken es, Landkreis Miesbach und Stamberg ist jeweils ziemlich, wie Sie sagen, auch in der CSU vertreten und wir nehmen alle Möglichkeiten wahr, die hier gehen und ich darf Ihnen sagen, viele unserer Abgeordneten denken so wie wir. Ich stelle die andere Seite nicht so fest. In Bayern wird schon so in diese Richtung gedacht, jedenfalls was das Süden Bayern beziehungsweise das Oberbayern und das Allgäu betrifft. Also regional werden wir hier alles möglich machen. Nochmal, ich kann nicht andere Landkreise aktivieren, die können also Beschlüsse fassen, aber es sind halt leider nur Beschlüsse, die zahnlose Tiger sind, wenn sie nach oben nicht weiterkommen. Und für die Gesetzgebung sind andere zuständig und ich hoffe, dass diese Aufrufe, die die Landkreise momentan vor Ort auch machen, dass die auch ankommen und ich weiß, dass sie ankommen. Und deshalb bin ich ganz, ganz guter Dinge. Aber wir sind alle aufgefordert, dass wir diesen Weg gehen und dies immer wieder ansprechen und nur so kommen wir weiter. Dankeschön. Dankeschön. La nostra esperienza è che l'Agenzia Ambientale Europea negli ultimi anni non ha ascoltato i nostri allarmi, peggio della Commissione, non ha ascoltato il nostro contributo sull'impatto di questa legge sull'ambiente. È giusto dire che è un'erosione del principio di precauzione, ma la mia domanda è questa. Avete l'impressione che la strada che si persegue, che trascura il principio di precauzione, porterà a una sfiducia dei cittadini europei nei confronti della Commissione? È già stato detto prima, c'è questa indagine che ha dimostrato che i cittadini europei vogliono alimenti sicuri, protezione dell'ambiente, ma i nostri segnali, i nostri allarmi non passano. E quindi vorrei sapere se c'è anche un problema di idea democratica europea qui. Sì, grazie per la domanda. Effettivamente è un problema e penso che ci sia anche una perdita o ci sarà una perdita della fiducia nei confronti della Commissione con tutto questo processo in moto della deregulation raffazzonato con il SUR, con l'uso sostenibile dei pesticidi che è collegato ad un uso ridotto dei pesticidi. C'è un accordo, diciamo, si dice che se volete una riduzione dei pesticidi dovete autorizzare gli OGM. È una situazione vantaggiosa per tutti, ma in realtà noi sappiamo benissimo che l'uso degli OGM aumenterà l'uso dei pesticidi. È palpabile questo legame. È una cosa per la quale spero che questi decenni di lotta contro gli OGM ci permetteranno, diciamo, dinanzi a queste sfide, dinanzi a questi quesiti che abbiamo sul tappeto, di rispondere rendendoli oggetto di dibattito, perché comunque la società all'80 al 90% non vuole OGM né tecnologie nuove genomiche. Gli europei devono essere presi sul serio. Non ci si può orientare agli interessi di pochi, di poche multinazionali che si appropriano di una parte del nostro futuro. Parlo della diversità alimentare, dei gusti, delle possibilità di sementi a disposizione, di resilienza, biodiversità che andrebbe persa con queste misure. Mi fermo qui. Divento molto emotiva come il dottor Scheitz, ma come deputata penso che la società civile, le regioni, i paesi, le organizzazioni ambientali, e gli agricoltori, i consumatori e i cuochi, tutti insieme dobbiamo unirci e dire non lo vogliamo, spiegando perché, elencando le conseguenze, conseguenze che sono anticipabili e che dobbiamo poter evitare e ritirare. Ne dobbiamo discutere prima di intervenire nella vita reale, cambiando per sempre il mondo e la natura. Grazie. L'onorevole Clergeau interverrà al prossimo panel che iniziamo ora con te, Margaret Engelhard, Riccarda Steinbrecher e Magda Stocchiewicz. Grazie veramente, grazie anche per aver mantenuto questo cuore sempre pulsante al posto giusto qui al Parlamento europeo e anche al governo austriaco. Mi fa veramente piacere avervi qui oggi e che la lotta vada avanti. Ora apriamo il panel successivo che abbiamo intitolato una nuova narrazione sugli OGM. Scienze e precauzione. Abbiamo esperti di spicco su questo tema. Riccarda Steinbrecher, dal Lenser, dalla Rete Europea di Scienziati per la Responsabilità Sociale e Ambientale. È stata una voce critica nel mondo scientifico da tanti anni. Qui vicino a me c'è Margaret Engelhard che si è già presentata, che è a capo del portafoglio di ingegneria genetica nella nostra agenzia federale per la protezione della natura in Germania. Questa agenzia ha prodotto una serie di valutazioni scientifiche, in particolar modo per quanto riguarda la precauzione e per quanto riguarda l'impatto potenziale degli OGM sull'ambiente. Ed è anche un piacere per me dare il benvenuto a Magda Stocchievic, che porta avanti una campagna su questo tema per Greenpeace nell'Unione Europea. Ha lavorato questo tema anche con l'associazione Friends of the Earth. Mi fa anche molto piacere dare il benvenuto a Pat Thomas, dall'associazione Beyond GMO, uno dei co-organizzatori di questa conferenza qui oggi, che ci presenterà la prospettiva e l'esperienza molto importante del Regno Unito. Poi, sempre con un collegamento a distanza, ascolteremo Georg Buchholz, che ha appena finito di analizzare la proposta da un punto di vista legale. Ci parlerà e approfondirà la questione del significato del principio di precauzione e ci indicherà quali sono le frontiere che anche la Commissione Europea deve rispettare, che non può ignorare questo principio. Ah, e dovrei anche presentare, scusate, Christophe Clergeau del gruppo socialdemocratico qui al Parlamento Europeo. Siamo veramente lieti di averla qui. Christophe Clergeau è anche relatore ombra per questo fascicolo alla Commissione Ambiente. Ne abbiamo tantissimo bisogno perché il relatore alla Commissione Ambiente, a capo di questo fascicolo, purtroppo non ha voluto partecipare. l'abbiamo invitata, avremmo voluto averla qui, anche perché ci potesse ascoltare, ma non ha tempo da dedicarci e nessun collega del suo gruppo voleva dialogare con noi. Io lo deploro molto questo. Penso che tutti dovrebbero prendere in considerazione l'esempio dell'onorevole Schaetz, che ha un approccio molto diverso alla discussione democratica, anche con coloro che sono in disaccordo. Bene, Riccarda, adesso ci dirai se c'è una nuova narrazione, e se c'è un vero cambiamento nell'Unione Europea sull'ingegneria genetica o meno. Prego. Grazie Penny. Se risponderò a questa domanda, vi voglio dire che sono biologa genetica molecolare, ho condotto degli studi della metà degli anni 90 sul rischio degli OGM, e faccio parte del panel degli scienziati che si occupano di responsabilità socioambientale. Abbiamo in questo contesto prodotto un'analisi della proposta e eravamo presi in contropiede, perché non è una proposta basata su dati scientifici, ma si tratta semplicemente di ridefinire questo strumento giuridico facendo un'equivalenza tra OGM con organismi tradizionali. Abbiamo sentito parlare tanto del principio di preoccupazione. Se dovessimo seguire questa proposta, ci scommetto tra brevissimo impareremo una storia sul principio di precauzione e sui disastri che l'inottemperanza ha portato, perché di nuovo non avremmo ascoltato, non avremmo adottato le giuste decisioni. Per questo motivo c'è il principio di precauzione, perché se qualcosa è nuovo, come lo sono queste tecnologie, e se vogliamo avere nuove forme di applicazione, e se non c'è un'esperienza pratica, se non ci sono prove a lungo termine, se non ci sono risultati, e come ha detto anche la Corte di Giustizia, queste tecnologie si sviluppano rapidamente, quindi abbiamo ora una categoria di nuovissime tecnologie su una conclusione, una finalità ancora non definita, perché sono in evoluzione, potranno fare parte di deroghe, e questo è non scientifico e responsabile. Se per esempio date un'occhiata all'esclusione, nell'allegato 1 ci sono due categorie, fondamentalmente, la categoria 1 e la categoria 2. il modo in cui sono state definite queste categorie praticamente fa sì che tutto possa essere spostato nella categoria 1, consentendo non solamente questo cambiamento di 20 basi, ma ci possono essere 20 modifiche con stralci e così via. come sapete, col CRISPR-Cars si può modificare i geni che hanno varie cromosomi e possono essere modificati tutti, poi può essere modificato un altro set, se ne possono modificare 20 con una quantità esagerata di alterazioni, una cosa che non si farebbe mai con una cultura tradizionale. Per quale motivo? Perché non c'è nessun legame con il rischio. È una cosa che teoricamente si potrebbe fare con la cultura tradizionale, ma non si fa. Non c'è comunque nessun legame con il rischio. Qualsiasi modifica anche di una base può far sì che una pianta sia tossica, sia più vulnerabile. E quindi non è solamente importante la portata della mutazione, ma anche dove si ubica questa mutazione. Queste domande non sono state fatte. Che cosa è stato cambiato? Quali modifiche non sono intenzionali? Perché è un aspetto che non è stato incluso. Tutte le mutazioni indotte da un processo vengono escluse. Per il CRISPR-Cars questa cosa va iniettata, inserita nella pianta, si utilizza un gene per inserire questo elemento nella pianta, la pianta a quel punto produrrà la molecola che spacca il DNA. Ma questo processo per includere questo gene nel genoma della pianta, secondo gli studi scientifici, questo porta a decine di migliaia di mutazioni, 300-400 in un unico gene. si sono fatti degli studi sulla vite, sull'uva. Quindi sono inclusi tutti i processi di mutazione indotta. la cisgenesis, poi, quello che può essere modificato. Si dice, beh, ma è quello che fa un agricoltore che fa degli incroci, ma in realtà non è così. Perché non bisogna neanche dimostrare che ci sono delle nuove culture, si possono avere degli incroci, si può dire, per esempio, ho questa pianta, è una carota, voglio un incrocio con il mais, ma posso usare altre piante che fanno da ponte per ottenere la pianta che voglio. Lo posso fare, questo incrocio a ponte è possibile e fa parte, diciamo, del pool di geni. E se utilizzo, quindi, questa pianta con questo genere, lo posso fare. quindi la categoria 1 consente di avere tutto in questo ambito, c'è una deregolamentazione di tutti i nuovi OGM. E questo è quanto, per quanto riguarda la scienza. grazie. Margaret, forse avrai più dati su questo. Sì, grazie. Sì, in realtà ho dei lucidi. Volevo, infatti, fornirvi anche dei dati, è più facile mostrarli che spiegarvi. grazie Riccarda per averci rammentato tutte le lezioni che abbiamo dovuto imparare sull'allarme anticipato da parte dell'Agenzia per l'Ambiente Europea. E vorrei anche io unire la mia voce a questo campanello d'allarme. Non dobbiamo di nuovo imparare lezioni a spese nostre, troppo tardi. Come ho già anticipato nella mia domanda, vediamo effettivamente che queste applicazioni nella categoria 1 rappresenteranno un rischio per l'ambiente, per la biodiversità e anche per la salute. Sono, diciamo, gli obiettivi che noi abbiamo incluso per la protezione ed è fondamentale mantenerli. Ci sono rischi diretti, ma poi ci sono anche rischi indiretti se non si può mantenere la coesistenza. C'è un rischio perché la coesistenza è una garanzia di biodiversità, soprattutto per le piccole aziende agricole. Abbiamo sentito questo esempio della Baviera, prima abbiamo sentito l'esempio dei colleghi austriaci. la diversità la diversità delle specie che utilizziamo nell'agricoltura è minacciata. Oggi quello che vorrei mostrare è dove ci porta questa proposta. abbiamo questa proposta di regolamento. Noi riceviamo delle proposte e dobbiamo decidere in quanto regolatori che cosa si farà in futuro. In futuro saremo coinvolti nella valutazione se l'organismo ricade nella prima o nella seconda categoria. Primo slide. Nell'analisi che abbiamo condotto o che ha condotto l'agenzia a Svizzera per la conservazione della natura ci si è concentrati sulle piante all'orizzonte in via di sviluppo le piante NGT ci sono 150 piante che sono state pubblicate abbiamo preso ogni pianta e abbiamo cercato di metterci nei panni del roguelatore per inserire la pianta o nella prima categoria o nella seconda categoria. Era difficile avere tutti i dati abbiamo scelto dei colori più chiari e più scuri il colore più scuro è il colore che rappresenta la certezza di un'appartenenza alla categoria 1 negli altri colori invece abbiamo potuto riscontrare una mutazione in un gene e quindi dire effettivamente anche questa pianta fa parte della prima categoria ma non lo possiamo dimostrare con la sequenza genetica quindi fondamentalmente di che cosa stiamo parlando di queste piante che abbiamo valutato 13 erano transgeniche le altre invece erano NGT1 e NGT2 il 94% di queste piante appartenevano alla prima categoria e solamente un 6% alla seconda categoria noi pensiamo che questa sarà una tendenza ancora più estrema ora che c'è questo nuovo regolamento i regolatori cercheranno o diciamo si cercherà di produrre queste piante perché vengano inserite nella prima categoria e già così il 94% fa parte della prima categoria abbiamo studiato più da vicino queste piante si tratta di piante orientate al consumo per esempio si tratta di piante che diventano scure per esempio un fungo se lo si raccoglie se lo si taglia diventa scuro mentre qui parliamo di piante diverse poi si tratta di piante che si coltivano più facilmente poi abbiamo delle piante resistenti agli insetti e poi abbiamo avuto anche un gruppo di piante resistenti agli erbicidi diciamo che la logica a monte principale per lo sviluppo di questa direttiva è che ci saranno molte applicazioni che ci consentiranno di risolvere i nostri problemi attuali e tutto quello diciamo per tutto quello che è in cantiere noi non abbiamo potuto riscontrare questo fino ad ora il 99% degli OGM era OGM era concentrato nella soia nel mais nel cotone il futuro sarà molto più vario quindi questo è un rischio per noi perché ovviamente non abbiamo un'esperienza sulle altre piante quindi non possiamo parlare di una storia di uso sicuro di queste piante modificate geneticamente ma questo è quello che ci aspetta torniamo alla questione delle categorie la maggior parte delle applicazioni di queste specie diversificate ricadranno nella prima categoria con nessuna valutazione del rischio con nessuna etichetta non avremo neanche dei dati per la tracciatura per il tracciamento perché i richiedenti non dovranno neanche fornire questi dati in questa prima categoria parliamo di piante pienamente deregolamentate e allora dobbiamo chiederci le applicazioni queste applicazioni rappresentano un rischio o no? parliamo di un incrocio classico normale o no? ma cerchiamo di dare un taglio scientifico l'argomentazione più rilevante è quella che utilizziamo che sentiamo è che è una cultura un incrocio tradizionale ma non è così ne parleremo vi posso mostrare vari grafici ci sono molte differenze rispetto alle culture tradizionali e queste tecnologie ma mettendo anche da parte questo aspetto nessuno è interessato al rischio io invece voglio sapere se c'è un rischio per la natura per la biodiversità per la salute non mi importa che ci siano similitudini con le culture tradizionali nel mondo transgenico nella ricerca transgenica ci chiediamo la pianta diventa invasiva certo se sono tolleranti a tutto possono essere invasive e si diventano invasive se si cambia il metabolismo del carbonio per esempio molti di questi cambiamenti seguono proprio questa piega sono più tolleranti per esempio al freddo sopravvivono meglio l'inverno nel suolo sono infestanti e possono infestare aree che sono ricche da un punto di vista biologico perché queste zone spesso hanno un'alta biodiversità e adesso queste piante possono diventare infestanti abbiamo anche transgenesi nelle piante selvatiche e poi possiamo anche avere dei problemi di salute c'è un pomodoro per esempio che ha un elemento neurotossico che riduce per esempio la pressione del sangue benissimo ma io voglio sapere se mangio un pomodoro che riduce la pressione del sangue quindi bisogna studiare questi aspetti la pianta può diventare infestante può essere tossica certo se si cambia il metabolismo la pianta diventa anche tossica per gli insetti ma adesso vi voglio mostrare l'esempio più estremo prossimo slide è un esempio tecnico non è lo stesso tipo di incrocio e non è una cosa che è ancora stata pubblicata comunque si chiama interferenza RNA che è diciamo un piccolissimo spezzettino della catena genetica se guardate sulla destra vedete che si può attaccare a geni di altri organismi silenziandoli in pratica spegnendoli e questo già si usa in interventi transgenici perché si può utilizzare per esempio come insetticida allora qui cosa si può fare si ha una pianta si aggiunge questo elemento RNAi cioè di interferenza genetica e poi arriva un insetto che se la mangia e questo spegne in pratica un gene essenziale dell'insetto che così muore questo è stato utilizzato come insetticida già in alcuni organismi quindi noi abbiamo analizzato potrebbe funzionare anche come insetticida in organismi che non sono stati mirati magari quelli che vorremmo proteggere e abbiamo scoperto che questo si può fare con almeno due volte 20 cambiamenti o trasformazioni di coppie di base quindi con questo si possono cambiare gli organismi e io vorrei sentire da uno scienziato che questo è un modo sicuro di riprodurre e che non ci sono rischi vorrei aspetto di sentirlo lo scienziato che me lo conferma infine un'ultima considerazione che ci tenevo a condividere con voi è questa abbiamo questa agenzia europea dell'ambiente e noi abbiamo valutato cinque diverse agenzie e ci siamo chieste se bastano 20 coppie base per una modifica o se si pensano a organismi di gruppi diversi e si interviene cosa succede noi non possiamo dire che questi organismi non presentino un rischio abbiamo presentato tutti i risultati l'abbiamo pubblicato e l'abbiamo inviato al massimo di agenzie ambientali europee e anche alla commissione con l'auspicio che si consideri che questo sistema con le categorie 1 e 2 non funziona qual è allora il cammino che ci porta al futuro per le agenzie ambientali ovviamente deve valere sempre il principio di precauzione e questo non è però garantito se si segue il sistema della categoria 1 perché non si può fare una valutazione del rischio per sé ci sono rischi scientifici e la legislazione sulle sementi non guarda gli impatti ambientali quindi non è sufficiente se si vuole garantire un futuro bisogna avere chiaro che non si possono avere requisiti di etichettatura e libertà di scelta se si mantiene la categoria 1 certo abbiamo ancora numerosi interrogativi la commissione ci dice che ci darà risposta poi negli atti delegati ma per noi le difficoltà principali sono site proprio in quegli atti delegati quindi anziché concentrarci su quello bisognerebbe rafforzare le valutazioni e le ricerche sul rischio agricolo di sicurezza e di altro tipo grazie 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 per averci mostrato tutte queste diapositive per aver fatto questo intervento ecco adesso passiamo a non soltanto una persona che ha un impatto politico e quindi potrebbe farsi prendere dalle emozioni ma che al contempo è anche un esperto scienziato Christophe Clergeau che sarà relatore ombra nei prossimi mesi su questi temi a facoltà buongiorno grazie a tutti io mi esprimerò in francese vedo che c'è chi toglie le gufie e chi le infila grazie agli amici verdi per l'invito oggi sono particolarmente lieto di ritrovare tutti i presenti in particolare Corinne Lepage con cui abbiamo condiviso molte battaglie e ci ritroviamo per questa ennesima battaglia oggi e sarà una battaglia dura da sferrare sarà un'enorme sfida siamo già riusciti ad avere una prima vittoria in francese si parla delle nuove organizzazioni dei nuovi organismi genetici non si parla di NGT di altre sigle perché non lo capisce nessuno se parliamo di nuovi OGM invece riportiamo il dibattito sui suoi elementi fondamentali ma ci vorranno ancora molte battaglie vinte prima di trovare una soluzione credo che si debba lavorare insieme per cercare di convincere un massimo di eurodeputati e convincere l'opinione pubblica mi sembra essenziale perché anche nel mio gruppo io devo convincere colleghi che mi dicono ma è una tecnologia interessante bisogna poterla usare e perché non fare come diceva Antonio Guterres ricordare che siamo in un periodo di disperazione di perplessità di incertezza di tutti coloro che di fronte al cambiamento climatico agli impatti sull'agricoltura sui paesi ci dicono ma se è possibile fare qualcosa perché non farlo io sono d'accordo con Margret perché non fare qualcosa ma in quali condizioni e in che modo si può usare la scienza io sono sempre a favore della scienza e l'innovazione a priori ma la domanda che si pone ai politici oggi e alla società è di capire come si usa la scienza per quali usi si applica come si protegge la società come si protegge l'ambiente e come si può fare tutto in modo che possa essere accettato dalle popolazioni che peraltro hanno tutte le loro specificità in Europa allora bisogna fare una battaglia tra le scienze una scienza contro l'altra se noi siamo convinti che il testo della commissione non sia basato su evidence based policy making quindi non sia fondato sulla scienza allora noi dovremmo trovare dei portavoce della scienza dovremmo farlo con rigore mobilitando scienziati e ricercatori per spiegare tutto quello che abbiamo appena sentito mi sembra che ci siano almeno tre capitoli che avete già sottolineato tutti intanto gli elementi di fondo del testo con le categorie 1 e 2 le definizioni e sono essenziali poi gli impatti ambientali la biodiversità in particolare ma anche le altre culture e tutti gli impatti imprevisti tutto quello che non sappiamo dell'impatto di queste tecnologie non solo su un certo sequenziamento genomico ma sull'insieme del genoma e sul modo in cui si esprime la pianta e come interagisce con il proprio ambiente circostante e poi c'è un altro interrogativo che si pone che è quello di vietare o meno gli NGT 1 e 2 che possono essere considerati erbicidi o insetticidi ecco qui ci sono stati state delle ondulazioni diciamo della posizione della commissione che ha cambiato in periodi brevi le proprie posizioni diverse volte poi come abbiamo visto dall'ultima diapositiva ci si può chiedere anche se in questa categoria 1 è rappresentato qualcuno chi è rappresentato io ero con un organismo di ricerca francese lunedì che dava le stesse cifre oggi il 90% dei nuovi OGM sono di categoria 1 allora per questa categoria 1 vogliamo accettare di buttare via 40 anni di conquiste politiche della costruzione europea per la protezione dei consumatori per la valutazione concreta dei rischi per la protezione delle modalità di coltivazione agricola che non accettano gli OGM eccetera eccetera sono domande scientifiche ma al contempo profondamente anche democratiche le due cose vanno la mano nella mano per concludere poi vorrei dire che sono d'accordo con un interrogativo opposto perché la commissione potrebbe e dovrebbe decidere tutto da solo ma perché la commissione può modificare tramite atti delegati elementi essenziali che hanno una base scientifica e non certo politica e perché se si chiede quanto sia brevettabile il vivente la commissione ci dice sì abbiamo dimenticato di analizzare l'impatto di questo testo su aspetti come la brevettabilità e che farà uno studio che darà i risultati nel 2026 quindi il rischio è che si faccia legge l'azione oggi senza sapere cosa succederà sappiamo cosa succede su situazioni come il glifosato è una specialità della commissione pretende di prendere decisioni prima ancora di avere informazioni sufficienti e poi ultimo punto siamo su un testo che vieta agli stati di esercitare la clausola di salvaguardia esercitare i loro diritti ma questa è una clausola sancita dai trattati non è il diritto di disobbedire è una cosa che consente di avere elementi fattuali che consentono di giustificare le proprie posazioni e se gli elementi sono solidi saldi questo consente di modificare le posizioni ci sono stati passaggi tra innovazione scienza e democrazia che hanno trovato un equilibrio nel corso degli anni che per ora rischia di essere infranto io non ho una logica di pro o contro da un punto di vista né tecnico né scientifico però mi chiedo ecco qual è il processo giusto che ci deve in cognizione di causa portare a dire alla fine sì o no io penso che tutte queste garanzie e queste tematiche debbano essere inserite nel testo oggi e non essere rinviate a un futuro oscuro grazie sicuramente incoraggiante ora vedo che ci manca il tempo quindi passo molto rapidamente a Magda per sentire il punto di vista di Greenpeace sulla questione grazie mille grazie per questo invito ho tre minuti quindi sarà dura forse userò tre e mezzo o quattro minuti comincio dicendo che metto diciamo qualche dubbio su quello che abbiamo sentito la commissione dice che gli OGM aumenteranno la sostenibilità e che servono a garantire la resilienza del sistema alimentare per sostenere gli obiettivi del patto verde europeo in particolare parla di resilienza al clima resilienza rispetto agli insetti o varietà che richiedono meno fertilizzanti e pesticidi grazie allora a Mark per le sue diapositive perché sembra che l'industria non abbia sentito niente di quello che avete detto perché tutto questo aspetto non è stato considerato continuano sulla linea del passato semplicemente scegliendo nomi nuovi diversi e cercando di deregolamentare non so come si possa dire in inglese ma bisogna chiamare le cose per il loro nome direi io adesso forse il mio inglese non è dei migliori ma avrete capito l'idea dunque ci sono tutte queste constatazioni e diciture che non sono state però dimostrate nessuno ha messo in pratica nulla né si è visto che si trovano risultati quindi è una narrativa che va smontata completamente perché siamo in una crisi climatica e sappiamo che lo siamo dobbiamo avere sistemi resilienti per alimentare e ce li abbiamo quindi dire che la risposta poi sono gli NGT non è sicuramente corretto se ci chiediamo se la sostenibilità è il vero obiettivo allora i raccolti geneticamente modificati forse non stanno però mirando a quel risultato forse gli obiettivi sono ben diversi e rientrano piuttosto nelle pratiche agricole industriali che già vediamo da 20-30 anni con un'agricoltura industriale che va verso la monocultura e porta alla dipendenza totale da vari tipi di pesticidi come i glifosati che sono dimostrati essere rischiosi per l'ambiente portano a un suo degrado cambiano molto le possibilità del mondo dell'agricoltura di guadagnarsi la vita e che soprattutto non sono assolutamente all'altezza delle promesse che erano state fatte perché non ci arriva sul tavolo un alimento più sano e quindi l'obiettivo proclamato qui non è necessariamente l'obiettivo reale concreto dietro a certe scelte nel modello di agricoltura industriale dobbiamo cambiare qualcosa se parliamo di resilienza parliamo di alimenti o anche di carenze di alimenti bisogna vedere cosa veramente ci darebbe una resilienza margaret lei parlava del fatto che l'agricoltura sostenibile è quella su piccola scala e che tradizionalmente riesce a riassorbire gli shock del sistema poi volevo intervenire sul principio di precauzione e i rischi potenziali di cui si è già parlato parecchio il principio di precauzione può essere descritto con due parole è una soluzione codificata perché dobbiamo garantire che anche se non c'è certezza scientifica si interviene perché ci potrebbe essere un rischio che si presenta e che va riconosciuto quindi è una sorta di umiltà strutturata mi ha sconvolto la proposta che sostanzialmente getta via come rifiuto il rischio potenziale e parla invece di un'ipotesi plausibile che però non è meglio definita quindi non si capisce esattamente cosa sia vogliamo davvero rischiare di abbandonare principi di precauzione per un'ipotesi plausibile di rischio non meglio specificata la mia organizzazione non è d'accordo la probabilità maggiore di interazioni in queste piante geneticamente modificate sono chiari i rischi sono stati menzionati sono rischi che nascono dal processo stesso e sono rischi potenzialmente giganteschi per l'ambiente sono noti devono essere mitigati devono essere affrontati e se non abbiamo processi e legislazioni che ci consentono di valutare i rischi di essere certi di conoscerli bene di avere l'etichettatura di avere la tracciabilità di essere in grado di capire cosa succede nel sistema non dovremmo rilasciare queste piante nell'ambiente perché il rischio è troppo grave io direi che l'ambiente è già stato in buona parte distrutto l'impatto si sente al di là del confine del nostro pianeta e credo che andare su questa via non ci porta certo alla fine della crisi climatica e dell'ambiente infine volevo dire che la Corte di Giustizia nella sentenza del 2018 è molto chiara quando dice che i rischi collegati all'uso delle nuove tecnologie genomiche sembrano piuttosto simili a quelli della produzione e sprigionamento di OGM e rientra quindi nell'ambito d'applicazione della direttiva sugli OGM e si conclude anche che l'esclusione degli NGT dal campo d'applicazione della direttiva sarebbe equivalente a non rispettare il principio di precauzione poi sentiremo una valutazione giuridica tra poco ma francamente mi sembra che questa proposta vada contro una sentenza della Corte di Giustizia quantomeno per quanto concerne il principio di precauzione per Greenpeace questa proposta del 5 luglio rappresenta deregolamentazione ed è contraddittorio rispetto agli obiettivi che la proposta dice di voler raggiungere cioè avere un elevato livello di protezione di salute e ambiente e per questo motivo non è atto allo scopo e quindi andrebbe cestinato questa è una proposta che non dovrebbe essere mantenuta concludo dicendo che spesso quando qualcuno parla di OGM l'industria e i propositori dicono che noi vogliamo vietare tutto ma non è così noi vogliamo che si assumano le responsabilità e che ci siano verifiche di sicurezza corrette che le OGM siano oggetto di monitoraggio tracciabili etichettati e che i consumatori sappiano o le persone anche sappiano se per esempio ci sono OGM negli alimenti che consumano e gli agricoltori sappiano se quello che è stato piantato e coltivato a fianco dei loro campi abbia contenuti OGM oppure no mi sembrano dubbi legittimi questi domande che uno si può porre e non dobbiamo quindi cedere di fronte alla narrativa dell'industria che dice che noi vogliamo vietare tutto la nostra proposta quella che abbiamo dinanzi a noi ci indica chiaramente che qualcuno non ha fatto il ragionamento e non ha tratto le conseguenze logiche di quello che significherebbe l'applicazione del regolamento proposto dalla commissione è regolamentazione pur di far regolamentazione ma non certo per la tutela dell'ambiente grazie Pat over to you thank you Benny I'd like to Pat prego grazie Benny vorrei iniziare con una citazione è importante riconoscere i limiti della scienza nelle risorse delle questioni profondamente meramente politiche i processi assistiti dalla scienza devono essere trasparenti e inclusivi aperti e inclusivi al di là delle politiche delle elite molti di plicinari indipendenti portati avanti con integrità l'indipendenza scientifica e l'integrità devono essere salvaguardate dall'interferenza politica gli scienziati devono essere honest broker e non devono essere avvocati del diavolo queste sono parole sottoscritte da via campesina friends of the earth green peace no in realtà no vengono da una relazione comunale su le ricerche scientifiche e le ripercussioni sulle politiche e sull'impatto delle politiche basate sulla scienza la scienza è sicuramente importante ma l'ingegneria genetica non è solamente scienza è una questione culturale politica sociale economica disciplinare o non disciplinare questo aspetto senza prendere in considerazione tutti i rischi è un fallimento politico economico in inghilterra abbiamo fatto nostro questo fallimento abbiamo abbandonato la lungimiranza la trasparenza la precauzione abbiamo iniziato ad attuare alcune delle misure più liberali dell'NGT portando alla fine una deregulation degli OGM nell'agricoltura nell'alimentazione creando nomi con categorie lasche con deroghe che non prevedono valutazione del rischio o tracciabilità degli OGM questa nuova proposta non è ancora operativa ma noi guardiamo all'Unione Europea per i prossimi passi perché l'Unione Europea ha un potere regolatore a livello internazionale che dovrebbe essere una guida grazie all'effetto di Bruxelles l'Unione Europea ha fissato degli indicatori globali per avere delle normative di precauzione ragionevoli per la sicurezza online dei cibi per la protezione ambientale quindi è veramente uno scalpore vedere ora che l'Unione Europea vuole seguire e non guidare e non vuole neanche soprattutto ascoltare il parere degli scienziati ci perprime il fatto che invece che proteggere il nostro ambiente i nostri alimenti ci si e nasconde in realtà dietro queste parole e si ripone tutta la fiducia in una scienza e in posizioni che non sono conclusive e sono incomplete siamo in una fase alla open aimer stiamo guardando una bomba cadere sul nostro sistema alimentare sul nostro ambiente senza prendere in considerazione le conseguenze con una scienza carente sfidando l'etica con una retorica nazionalista che dice che siamo innovatori e vincitori non è troppo tardi per modificare queste proposte è negli interesse di tutti i cittadini di tutti i cittadini qui e altrove i colleghi del panel hanno mostrato che i dati scientifici non sono sufficienti sono carenti ci sono promesse soprattutto e io che sono straniera posso essere anche più diretta e dura non fate cadere questa bomba grazie per questa raccomandazione per questo consiglio per concludere ora questo panel ascolteremo Georg Buchholz che è un avvocato che ha trattato qualche caso GM già fino ad ora addendo anche la corte di giustizia europea ha passato in rassegna la proposta con la penna rossa in mano che l'uomo che detiene la legge tiene sempre in mano e quindi adesso ci dirà qual è lo stato delle cose di questa proposta di regolamentazione dell'Unione Europea benvenuto Georg Buchholz per i lucidi per le slide bisogna chiedere ah no non ci sono slide ancora meglio prego benvenuto da Berlino il suono purtroppo è molto aggressivo cercheremo di fare del nostro meglio tenendo il volume basso ci basiamo sul principio di precauzione la commissione dichiara che la proposta NGT è in linea con le proposte basate sul principio di precauzione avanzate fino ad ora il principio di precauzione viene citato e spiegato nel memorandum nella motivazione ma non viene citato nel consideranda che sono importanti invece per l'applicazione degli atti legali questo non è positivo e non è convincente che non se ne parli nel consideranda purtroppo il suono di questo microfono è molto aggressivo per le nostre orecchie non possiamo fornire un servizio di interpretazione per questo intervento ce ne scusiamo è diventare completamente appare il principio è scritto nei trattati degli Stati oblige il legislatore a un livello di protezione basato sul principio ma questo è un punto importante il legge è limitato il legislatore deve balanzare il principio con altri obiettivi e principali che vuole seguire So the traditional review of the ECJ is limited to manifest errors of assessment by the union legislator. Anyway, I looked at the proposal and found a lot of violations of the precautionary principle which were mentioned before. The first point is the risk blindness and the misleading comparison by the Commission. The second point relates to benefits of NGT. The third point to a lack of risk management and the fourth point to an indefinite to broad scope of application. Risk blindness, first point. The classification of NGT plans takes place exclusively according to type and number of sequence alterations and the resulting changes in properties and the associated risks are completely irrelevant. And so there is no risk assessment for NGT1 plants at all and products thereof. It's only a status check if a plant is an NGT1 plant or not. A coherent privileging of NGTs with current GMO law would require that they pose no risks or lower risks compared to other GMO. But there is no scientific basis for this as we have heard before and as we have heard before not only the ECJ but also the Commission itself confirmed that the risks of NGT and other GMOs are similar. And the ECJ judged in 2018 a too broad mutagenesis exemption would therefore fail to respect the precautionary principle. So the same is true for NGT1 I think. Now to the misleading comparison by the Commission. The Commission justifies the exemption from GMO law with the comparability of risks of NGT plants with risks of conventional plants. That is an absolutely misleading approach. Exemption from GMO law requires comparison with other GMO because GMO law has never been justified on the ground that GMOs would pose higher risks than conventional organisms. I really looked at the history of German GMO law in the 80s and 90s of last century and I found that the essential reasons for GMO law which apply equally to NGT1 and NGT2 are the risks of humans and animals. As Margaret Engerhard said before and the risks for biodiversity and they were compared in the 80s to invasive conventional species. So it's from the beginning of GMO law it was not the thought that they may pose higher risks, but they may pose the same risks as conventional species, maybe like invasive species. So the comparison by the Commission is from the beginning absolutely misleading. It has nothing to do with the reason of GMO law. Now look at the benefits of NGT. The Commission justifies the exemption from GMO law with potential benefits of NGT crops for sustainability, food safety and autonomy of the European Union. In principle greater benefits may justify restrictions of the precautional principle. Let's look at the corona pandemic where there were made exemptions, but the potential benefit of NGT is not greater than the potential benefit of other GMO and the exemptions the Commission proposes are independent of specific benefits. They apply equally to NGTs that are harmful to the stated objectives. So the precautionary principle would only be justified in so far as specific benefits of NGTs in general or of individual NGTs in a case-by-case assessment can be demonstrated, which is not the case. Now to the lack of risk management for NGT1, which are totally excluded from GMO law. The risk management for other GMO into ALIA includes pre-lease risk assessment, evaluation and authorization, traceability and labeling, monitoring by responsible persons, by a monitoring plan, official controls, ordering powers and a safeguard clause and opt-out for member states. For NGT1, none of these risk management measures do apply. There are no general requirements for safety of NGT1, even product safety law is not applicable for plants. There is no possibility of status rejection if we know that an NGT1 plant is dangerous and there is no special intervention basis if we realize that an NGT1 is dangerous. There is only general product safety, food and feed and regulatory law. The food law, to the detriment of food businesses, e.g. in case of risks from accidental and unintentional contamination with NGT products, would work against the food businesses and not against the inventors or the persons who release the NGT1 into the environment. So last point, the vague, too broad scope, the proposal of the commission conceals the risks of NGT plants. The scope is determined, as said before, only by the type and number of DNA alterations. So first, the legislative bodies, but also the food businesses, the consumers and other members of the public cannot judge the potential risks of these plants. There are many imprecise terms, e.g. for NGT1. It begins with targeted mutagenesis, how accurate, how precise must the target be and met. There's, for NGT1, there's a sequence similarity required, but what percent of what sequence length must be similar. It is required a bioinformatic predictability, but how accurate must this predictability be, especially regarding unintended aspects. The consequence is that there is a potentially boundless scope of application, as Margaret Engelhardt has shown before, exempted from GMO law at all. So the conclusion is, this is a completely one-sided and unbalanced proposal from the commission. And my legal conclusion is that the regulation would be void due to the violation of precautionary principle, because there are manifest errors of assessment, and there is no scientific basis for the exemption of NGT from general GMO law. So, and last point, there are, from my point of view, a lot of other open questions regarding civil liability. So, the question is, if there is a risk assessment obligation according to general liability law, and who might be obliged to do this risk assessment? I think of a general liability for producers of NGT1 plants and products, but also of the liability of food and feed businesses who use NGT1. And next point, the information obligations in the business-to-business seller-buyer relationship beyond labeling requirements. So, do they, does a seller who sells NGT1 plants have to inform the buyer? Does the buyer have to ask the seller what is, if there are risks occur, who is responsible, which insurance will pay? I think all these are questions for the businesses, which have to be addressed. So, thank you from my point. Thank you very much. Thank you very much. Grazie davvero. Devo chiedere scusa? Ma, devo dire che abbiamo usato un po' troppo tempo perché era molto interessante quello che stavate dicendo. Però, guardandovi, penso che sarebbe un errore saltare la pausa per recuperare il tempo perduto, perché vi vedo un po' stanchi. Quindi vi chiedo di alzarvi in piedi, stiracchiarvi, prendete un caffè velocemente, ma tornate direttamente in modo da poter recuperare una parte del ritardo che abbiamo accumulato adesso. Comunque, grazie davvero per gli interventi estremamente interessanti e utili. Grazie. 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 Grazie a voi. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, 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 buongiorno. tecnologie genetiche e come disciplinarle. Ma abbiamo parlato anche del futuro dei nostri alimenti e per questo è importante includere i cittadini. Purtroppo c'è molto eco e la signora non sembra utilizzare un microfono che ci consente di sentire con sufficiente precisione per poter interpretare. Ci scusiamo ma finiremo qui l'interpretazione. Ci scusiamo ma anche un'importante differenza perché, come a un'intervista, come si può fare più iniziare, ma anche perché non abbiamo bisogno, e che molti consumatori non possono leggere i cittadini, non significa che, come cittadini, non hanno più rischi che non hanno più rischi di rispondere a loro cittadini. Ci cittadini hanno rischi di rispondere a loro cittadini. E identifichere persone solo come cittadini riduzendo le complexe e diverse identità di cittadini. I would like to start off with just one of the important findings, and that is that in our study, we didn't find that participants saw these NGTs as any different from genetically modified crops, and that of course stands in stark contrast to the dominant frame that argues that it is relevant that NGTs have small changes that could have occurred in nature or through traditional breeding. But citizens, they argue instead that yes, it may be the case that these plants only have small changes that might occur in nature or through traditional breeding, but the fact is these changes didn't occur in nature, and it didn't occur through traditional breeding. And so the process is actually important and relevant for citizens in our study, and they subsequently reflected on the fact that equating these NGTs with traditional breeding, and they talk about it and they say, well, maybe that's done for political reasons, maybe it's done for marketing reasons, maybe they just want to rid these NGTs of a bad connotation. Next slide, please. So citizens talk very nuanced way in our focus groups about the NGTs, and in general, they were very open to the idea that these new genomic techniques could provide solutions for specific problems in agriculture, like infections or plagues, and they see the opportunities that these techniques can afford. Most people weren't in principle opposed, but there was very little enthusiasm for introducing the NGTs in food crops. And there are basically three reasons for that. So first of all, citizens have doubts about the long-term safety of these techniques. They've seen in the past that introduction of technologies, and whether that's cars or whether it's Airbnb, it leads often to unintended and unforeseen negative consequences. And so they wonder why it would be any different with this technology. And moreover, they say, these current challenges that we're dealing with, like nitrogen disposition, decreased biodiversity, also the impoverished soil, they're actually seen by citizens having been caused in part by this intensification of agriculture and technologies. And so solving these problems with yet another new technology is just seen as a temporary solution that is likely to generate unintended and unforeseen side effects in the long term. And people also expect that their governments to put only products on the market that have been assessed for risk, especially when it concerns food. And second, citizens worry that these NGT plans are unlikely to contribute meaningfully to solving current challenges. They doubt whether NGT crops will provide the solutions, because they do not see how they would solve these complex and multidimensional causes that underlie the current predicaments. So citizens will, for example, mention that there is this unfair distribution of food in the world, and much land is used for growing food for our livestock. And they just don't see how new genomic techniques is going to, you know, deal with that problem. And a third argument that we found when they talk about NGTs is that they doubt that companies will indeed produce crops that contribute to solutions to our societal problems. And on the contrary, their experience with companies actually shows that these commercial interests are more important. And so they wonder why it would be any different here. So they commonly mistrust the motives, but also the capacity of companies to respond to to societal challenges. And they believe instead that these new genomic techniques will just be used for cooperation for short-term commercial benefits. And it's actually precisely these commercial benefits that they don't find acceptable as a goal for new genomic techniques. Next slide, please. So in light of these views, it's of course unsurprising that we found that the citizens that we spoke with, that there were unanimous in their view that NGTs need to be regulated. There were also unanimous in their views that these NGTs need to undergo an environmental risk assessment before reaching the European market. And there were unanimous in their view that these new genomic techniques or the crops, the products from them, need to be labelled. And we don't really have any reason to believe that if a similar study were done in other European states that the results would be any different. Next slide, please. So how do we anticipate that citizens would react to the current proposal from the European Commission? Now, based on the findings, we would say that there's probably very little enthusiasm among citizens for the current proposal as it stands, because, of course, they're in favour of this risk assessment and the labelling. And we actually found that the more citizens were talking about the use of new genomic techniques in agriculture, the more they realised that although the technology itself might have this great potential, the potential will not be realised if the structure of our society doesn't encourage it. And it's the lack of trust in the developers' motives and goals and the lack of confidence that the technology will, in practice, solve societal challenges that kind of builds their view. So, just briefly, what would be our advice to the members of the European Parliament based on our study? Next slide, please. So, we would think that, you know, making the assessment of risk to human health and the environment a requirement for market approval would be a good idea just based on what we found that citizens in our study would say. And we also found that preserving the freedom of choice is very important for our citizens. And last, I think we think that having this broader assessment of ethical, cultural and socio-economic aspects are important because citizens are concerned about safety, are concerned about increased corporate control, increased inequality in the food system and a loss of consumer choice. So, there is a lack of trust also in the capacity and willingness of politics and corporation to respond to societal challenges and in the capacity of free market to bring valuable products. And so, if you would make it a requirement that only valuable products would come onto the market, I think that would really build trust with citizens. And that's kind of what I wanted to tell you about our study. Thank you. Thank you so much, Michelle. Grazie, Michelle, per essere qui con noi. Adesso darei la parola a Fabrizio Fabri, un collega che conosco da tanto tempo, che rappresenta le cooperative di consumatori in Europa, Eurocop, e ci presenterà il punto di vista dei venditori al dettaglio su questa nuova proposta. Prego, hai facoltà Fabrizio. Grazie, grazie per averci invitato. Secondo anno di FINA. Abbiamo presentato la nostra posizione anche l'anno scorso. Non mi dilungo, Eurocop però presenta le varie cooperative di consumatori, non solamente nell'Unione Europea ma in Europa in generale. siamo la seconda forza di dettaglianti in Europa. Abbiamo più di 30 milioni di affiliati che detengono per l'appunto le cooperative. le cooperative sono detenute dai loro stessi membri. Qualche rapida impressione, idea. Le Coop sono sempre state all'avanguardia nella lotta agli OGM. alla prima generazione di OGM, per così dire. Molti membri hanno fatto campagna attiva contro gli OGM, si sono impegnate per l'etichettatura con audit interni, con sistemi di certificazione che garantiscano a tutti i consumatori di poter scegliere liberamente i prodotti che acquistano. Sulla base di questa posizione politica io, come segretario, ho elaborato una posizione sugli NGT che è stata presentata fondamentalmente nel settembre del 2021, da cui ho derivato il nostro documento di posizione che è stato presentato alla Commissione tramite il portale Have Your Say. Secondo slide. Successivamente, dopo questa presentazione del 2021, questa posizione è stata un po' impugnata da alcuni membri che hanno detto forse dovremmo rivedere magari gli NGT potrebbero rappresentare una soluzione per avere una produzione più sostenibile del cibo. Abbiamo lanciato un questionario interno inviato a tutti, alcuni hanno risposto, ci siamo concentrati sulla valutazione ex ante ex post, tracciabilità, rapporto con cibo importato e come potete vedere su questo slide la maggioranza di chi ha risposto ha sostenuto la posizione originaria del nostro segretariato secondo la quale le entità, queste entità, devono essere considerate OGM. Ci siamo fatta per COP Regno Unito, condizionata dalla normativa nazionale che non verrà impattata dalla legislazione dell'Unione Europea. Per quale motivo? perché c'è una profondissima crisi alimentare nel Regno Unito, manca l'offerta, hanno un problema di forniture, sono nella posizione di adottare delle azioni forti contro questa misura. ma se diamo un'occhiata alla tracciabilità e all'etichettatura, anche COP Regno Unito, sulla base delle informazioni ottenute dai consumatori, dai clienti e dai membri, anche nel Regno Unito si chiede un'etichettatura della tracciabilità è un minimo comune denominatore che coinvolge tutte le COP, come possiamo vedere. Per quanto riguarda brevetti, ricerca e pubblicazione dei vari tratti modificati, per quale motivo non ci può essere una pubblicazione? semplicemente perché non la si vuole. I nostri membri sono favorevolissimi, totalmente favorevoli a una pubblicazione dei tratti che vengono cambiati dalle tecnologie, le agenzie nazionali devono poter svolgere la loro funzione, devono poter identificare la percentuale di NGT che sia autorizzata o meno. Per quanto riguarda la ricerca, praticamente tutti i membri sono più inclini a utilizzare tecniche meno invasive, come le MAS. E c'è una posizione ai brevetti. Sulla base di questa consultazione interna, posso dire che il segretariato di Eurocop ha rafforzato la sua posizione. A livello europeo Eurocop è pronta a unirsi a qualsiasi battaglia che verrà lanciata nei prossimi mesi durante i negoziati e continuerò a raccogliere il sostegno dei membri a favore di questa posizione e continueremo ad assistere anche i membri di Eurocop, in particolar modo i membri scandinavi, norvegesi, che sono particolarmente attivi e preoccupati dalla proposta, così come continueremo a sostenere tutti i membri, anche quelli nuovi. gli inviterò a partecipare in una coalizione per aumentare la massa critica. Grazie. Abbiamo sentito parlare delle sfide speciali e specifiche per l'agricoltura biologica, per la trasformazione alimentare e biologica. qui adesso abbiamo Bernard Lignon che è vicepresidente dell'IFOAM Organics Europe e che lavora per Sina Bio, l'organizzazione dei trasformatori biologici francesi. Sentiremo per quale motivo la tracciabilità e l'etichettatura sono così importanti. Bene, grazie. Una precisazione. Sono membro del board, ma non sono vicepresidente di FOAM Europa. è un dettaglio, è solamente un dettaglio. Signore e signori, buongiorno. L'IFOAM Organics Europe vuole riaffermare che l'agricoltura biologica deve rimanere esente da OGM e anche da OGM NGT. Per garantire la libertà di scelta, la normativa biologica vieta l'uso di OGM nella direttiva 2001-18. L'uso di NGT dovrebbe essere vietato nella filiera biologica. Ma questo divieto deve essere garantito da un quadro giuridico, da mezzi tecnici esistenti. Cosa che non è così. La Commissione vuole attribuire la responsabilità delle regole di coesistenza ai Paesi membri per evitare contaminazioni fortuite. Ma questo creerà delle distorsioni se queste misure nazionali non verranno armonizzate. Inoltre, i Paesi membri, anche questo è stato detto, non avranno più la possibilità di vietare la produzione di NGT su parte o tutto il territorio, perdendo così parte della loro sovranità che invece permette loro di vietare l'OGM attualmente. Le modalità, infine, di tracciabilità e di etichettatura sono ridotte al minimo per la categoria 1 di NGT con un unico registro e con un obbligo di etichettatura solamente delle sementi. Visto che i consumatori non mangiano sementi, queste misure non sono sufficienti e sono a maggior ragione inadeguate perché non sarebbe possibile identificare le NGT analizzando i prodotti. La possibilità di coesistenza non è coperta da regolamento. Non c'è la capacità per tutti i Paesi membri di vietare le culture NGT. L'identificazione sistemica dei prodotti con derivazione NGT con l'obbligo per il notificatore di fornire le informazioni sull'origine con un'etichettatura per tutta la catena di produzione con una tracciabilità obbligatoria e poi un'altra misura l'attuazione di un regime di responsabilità rigoroso di un fondo di risarcimento per risarcire gli agricoltori in caso di contaminazione. Effettivamente nella maggior parte dei casi quando c'è una presenza accidentale è possibile identificare le cause, gli errori e quindi la responsabilità. È essenziale quindi che ci sia un quadro giuridico dei mezzi tecnici ma non spetta il settore biologico e il consumatore in ultima istanza assumersi le responsabilità ai costi di questa misura. Le politiche pubbliche non possono ribaltare così l'onere della prova a scapito della filiera biologica come invece già succede per i pesticidi. Non spetta agli operatori biologici farsi carico dei costi aggiuntivi per i costi di analisi, di blocco, di declassificazione per contaminazione incrociata per mostrare la conformità dei prodotti o in caso di contraffazione quando ci sono dei brevetti. Poi se un operatore chiederà al suo fornitore se la pianta origina è NGT spesso la risposta che riceverà è i nostri prodotti sono in linea con la normativa NGT e l'operatore non potrà sapere se il prodotto rispetta la normativa biologica o meno dinanzi a tale risposta. Se un produttore di sementi ha dei clienti che a loro volta hanno altri clienti in caso di etichettatura obbligatoria solamente alcuni clienti riceveranno queste informazioni gli altri dovranno pagare per avere queste informazioni. Abbiamo bisogno quindi in Europa di un sistema di identificazione e di coesistenza perché gli operatori biologici e convenzionali possono continuare a produrre senza OGM lunga tutta la catena di approvvigionamento senza un onere per i produttori né per i consumatori. Grazie per l'attenzione. Grazie. L'ultimo oratore in questo panel sarà Tilly Metz che rappresenta un paese tradizionalmente critico nei confronti degli OGM. Prego Tilly. Grazie per avermi invitato. Sono in realtà co-invitante qui ma insomma grazie a te allora per averci invitati. Va bene allora la commissione ecco è una cosa di cui abbiamo parlato la proposta della commissione non va bene perché non considera il principio di precauzione si è detto ben due volte ma inizialmente l'idea sarebbe di evitare di etichettare gli OGM. Questo in contraddizione con l'articolo 8 della legge generale sugli alimenti del 2002 dell'Unione che garantisce il diritto dei consumatori di operare delle scelte in cognizione di causa. Avendo ascoltato Michel Habetz mi viene di nuovo da dire ma sentiamo i cittadini ascoltiamo la loro saggezza ascoltiamo i produttori i consumatori europei sono molto chiari non vogliono e l'abbiamo visto nella presentazione non vogliono alimenti geneticamente modificati sul piatto. Quindi le norme di trasparenza etichettatura attuali per gli OGM hanno portato a reiezioni di mercato che hanno molto impatto di cibi geneticamente modificati nell'Unione. Più di 60 OGM potrebbero essere importati come alimenti o mangimi nell'Unione Europea ma la domanda è così scarsa che comunque non si trovano i prodotti con etichetta OGM nei supermercati. Naturalmente poi sul fianco contrario se parliamo di mangimi OGM la questione cambia un po' perché lì non vi è obbligo di dichiarare se gli animali abbiano consumato mangimi geneticamente modificati. Ecco questa è una cosa a cui possiamo pensare noi, Martin lo sa, noi abbiamo lottato contro questo. Comunque forse qua il discorso va un po' troppo in lato. Ad ogni modo quello che sicuramente possiamo dire è che c'è una grande maggioranza di consumatori che non distingue in realtà tra OGM tradizionali e i cosiddetti NGT cioè le cosiddette nuove tecnologie genomiche e di modifica genetica. Questo oramai è chiaro a tutti e i cittadini vogliono godere del diritto di essere informati nel periodo di consultazione nel 2021 più di 60.000 cittadini unionali hanno risposto che volevano mantenere disciplina ed etichettatura per le nuove NGT. Perché allora la Commissione non considera quello che dicono i cittadini? Per quanto concerne poi la tracciabilità mi sembra piuttosto paradossale il messaggio che circola e si capisce subito quanto sia assurda questa proposta. Ci viene detto che le nuove OGM sono come le piante convenzionali quindi non bisogna preoccuparsi, non ci saranno impatti sulla salute o l'abbia diversità che non siano stati previsti o siano pericolosi. Al contempo però sono sempre invenzioni delle grandi agroindustrie che vorrebbero ottenere i soldi grazie ai brevetti. Quindi è un po' contraddittorio da una parte non serve la tracciabilità ma dall'altra vogliono disporre dei brevetti. Noi siamo contro la brevettatura del cibo ma questo significa invece che i grandi conglomerati potranno rintracciare e verificare le modifiche genetiche per tutelare i loro interessi finanziari. Quindi in sostanza gli strumenti per rintracciare queste nuove OGM resterebbero tra le mani dei grandi operatori, delle grandi industrie che possono guadagnarci. Invece per agricoltori che produce alimenti e chi vende al consumo ci sarebbe completa mancanza di trasparenza e questa sarebbe una minaccia specifica e particolare come abbiamo sentito per tutto il settore del biologico. E questo è un altro paradosso peraltro perché da una parte ci dicono è convenzionale, dall'altra però dicono che l'organico, cioè il biologico, deve essere completamente esente dagli OGM. Comunque anche i ricercatori indipendenti e le autorità pubbliche resterebbero all'oscuro di tutto. E allora come possiamo noi mantenere una visione generale sulla diffusione di queste nuove OGM nella natura e come possiamo considerare gli eventuali sviluppi una volta che sono rilasciati e sprigionati nell'ambiente? Milioni di euro spesi sulla nuova ricerca OGM nell'Unione negli ultimi anni ha visto solo 1,6% speso sul rilevamento, valutazione del rischio e monitoraggio. C'è una citazione che mi piace tanto. Se non si cercano i problemi raramente li si scopre fino a che non è troppo tardi. Grazie. Grazie Tilly. Non credo che restino interrogativi e dubbi. Sapete sicuramente a cosa sto mirando a continuare molto rapidamente per il prossimo panel per evitare di accumulare ritardo. Tra l'altro la signora Lepalci ci deve lasciare un attimo in anticipo. Il dottor Häusling anche mi ha detto che deve uscire alle 18 in punto e abbiamo solo più mezz'ora di tempo a disposizione. Quindi vorrei gentilmente invitare i membri del prossimo panel ad avvicinarsi al podio rapidamente. E qui ci chiederemo qual è l'impatto globale ora che sappiamo che è necessario etichettare, ora che abbiamo capito la base scientifica rispetto alla distinzione tra vecchi OGM e nuovi OGM e sappiamo che non è affatto concreto e che è lacunosa. Dopo che abbiamo sentito tutto questo abbiamo direi da parlare dell'impatto di tutto ciò sugli alimenti e i sistemi agricoli. Abbiamo con noi una vecchia compagna di battaglia Corinne Lepage, abbiamo anche Erika Olson che è un'agricoltrice svedese che mi auguro arrivi tra qualche istante. Forse è uscita un attimo, l'abbiamo persa. E l'onorevole Martin Häusling che avete già sentito nominare, nonché Isabel Sommer dell'Alleanza Svizzera sull'ingegneria genetica che è coorganizzatrice altresì. Purtroppo a causa del covid che sta tornando impattandoci deve collegarsi con noi via video. Prego signora Lepage, sono superflue le presentazioni nel suo caso ma posso almeno menzionare che lei è stata ministro per l'ambiente in Francia e che è stata a lungo europarlamentare. È stata anche relatrice del Parlamento europeo sulla decisione opt out per le OGM e continua a gestire uno studio che fa campagna diciamo soprattutto contro i pesticidi. Prego. Grazie Presidente. Forse vi deluderò ma ho un po' modificato il discorso che intendevo fare cercando di integrare quanto ho sentito questo pomeriggio. Vorrei prima di tutto dire una cosa tipica da ex combattente. Quando sento i vostri dibattiti vi dico che sono gli stessi che facevamo 30 anni fa nel 1995. Infatti nel 1995 io ero ministro per l'ambiente e quindi andavo al Consiglio dell'Unione sull'ambiente e da allora gli americani avevano già cercato di imporci gli OGM perché era questo che era successo. C'era stato proprio un'ostruzione, un blocco dei nostri porti per costringerci a mettere gli OGM. Gli interrogativi che ci ponevamo erano gli stessi che vi ponete voi oggi. Certo le tecnologie non erano così evolute, l'Agenzia dell'Ambiente europea non ci aveva presentato ancora i due straordinari documenti sul segnale di precauzione, sui segnali primi, i preallarmi e i passaggi tardi. E tra l'altro non so neanche perché non abbiamo ancora il documento del 2022 dell'Agenzia per l'Ambiente ma sono almeno validi questi primi. E poi ci chiedevamo questo avrà un impatto sulle altre piante, potrà avere un impatto sulla salute delle persone, ci saranno problemi di brevettabilità, di esseri viventi eccetera eccetera. E quindi quello che vorrei dire qui in termini piuttosto solenni è che tutti gli interrogativi che si erano posti all'epoca hanno trovato la risposta sbagliata, nel senso contrario, perché tutto quello che noi temevamo in effetti si è verificato. Quindi possiamo ricostruire come sono andate le cose e bisogna formulare un diritto di protezione che si basa su tre orientamenti. Prima il diritto degli stati membri di rifiutare, ci ha voluto del tempo ma ci siamo riusciti nel 2015 o 2016 perché io avevo presentato solo la prima relazione. Poi studi approfonditi, applicazione del principio di precauzione. Anche se anche per gli OGM siamo ancora piuttosto distanti da un principio di precauzione secondo la sentenza Bles del 2019 della Corte di Giustizia, che per me è la miglior definizione ad oggi e che gli studi sul lungo termine ancora non sono conclusi, sicuramente lungi da lì, almeno abbiamo un elemento. Il terzo punto importante è l'etichettatura, l'etichettatura per i consumatori, non per i produttori, perché il consumatore se ne infischia completamente e anche gli stati di quello che pensano i produttori. Tutto quello che noi abbiamo costruito in 30 anni è stato veramente cestinato a causa di questo progetto, con le conclusioni della Corte del 2016, anche se quella del 2018 è meno positiva, e che è il fatto che si sono evitate le regole sulla brevettabilità del vivente, ci arriveremo, e anche la considerazione delle posizioni del consumatore che deve poter decidere se vuole o no acquistare OGM, non potrà decidere se non ha un'etichetta che gli spiega cosa acquista. E poi si evitano le valutazioni di rischio e non si applica il principio di precauzione. Concludo dicendo che c'è una regola importante per tutti questi aspetti, ed è la questione della reversibilità, perché quando si fa qualcosa di nuovo e che ci si sbaglia, bisogna chiedersi se è possibile tornare indietro o no. E' proprio questo principio che mi aveva consentito di ottenere nel 1996-1997 dal governo francese una moratoria sulla coltivazione degli OGM in Francia. Almeno per un anno l'abbiamo avuta, poi l'anno dopo l'hanno sciolta, perché la questione della reversibilità riguarda la responsabilità di ciascuno di noi introdurre nel vivo degli elementi rispetto ai quali non saremo più capaci di tornare indietro. Significa assumere un rischio considerevole, e quindi questo fa scattare delle responsabilità nei confronti delle generazioni future che sono inaccettabili, come del resto anche rispetto a tutti gli altri esseri viventi. Quindi dobbiamo mobilitarci, e concluderò con queste parole. E' indispensabile che l'opinione pubblica sia informata. Vi posso dire che in Francia non lo è, perché nessuno parla di questo tema. Io non l'ho visto da nessuna parte, e vi posso dire che seguo abbastanza le notizie sull'ambiente. Ecco, grazie per l'attenzione, vi chiedo scusa se non posso rimanere fino alla fine del panel, perché purtroppo ho un treno da prendere. Grazie, signora Lepage, è un onore per noi averla qui. Capiamo benissimo il fatto che debba lasciarci per il treno. Diamo la parola alla nuova generazione, a Erika Olson, che è agricoltrice biologica in Svezia, e anche un membro importante dell'organizzazione degli agricoltori biologici in Svezia. Grazie. Sono Erika Olson, ho un'azienda agricola al sud di Stoccolma, in Svezia, un'azienda biologica familiare, portata avanti da me, da mio marito e dai miei figli. Noi come agricoltori viviamo nella storia, nel presente e nel futuro, al contempo. Ogni giorno nella mia azienda agricola vedo le tracce dei miei antenati che hanno vissuto in quell'azienda migliaia di anni fa, vedo gli alberi che sono stati piantati cent'anni fa o cinquant'anni, che danno ancora frutti, e ogni giorno creo la scena, spiano la strada per i miei figli, per il mio figlio che vuole diventare agricoltore in futuro. e noi agricoltori biologici in Europa vogliamo avere la libertà di scelta di non dover scegliere gli NGT. Ed è positivo che la proposta della Commissione vieti gli NGT in tutta la produzione biologica, perché i consumatori, o forse per meglio dire i cittadini che acquistano prodotti biologici, si aspettano che non ci sia un uso di ingegneria genetica nella produzione di questi prodotti. Assimilare gli NGT alla cultura tradizionale senza nessuna tracciabilità vorrebbe dire imporre il loro uso a tutti gli agricoltori, inclusi anche gli agricoltori biologici. E questo minerebbe la reputazione dei prodotti agricoli. Avrebbe delle conseguenze economiche negative in una fase in cui il mercato biologico sta affrontando tempi difficili a causa dell'inflazione. Un'altra cosa che mi preoccupa è l'impatto della regolamentazione degli NGT per quanto riguarda i brevetti. La tracciabilità obbligatoria con il sistema fissato dalla legalizzazione degli OGM attuali consente una identificazione, un'informazione chiara su qualsiasi prodotto materiale genetico nelle varie richieste di brevetto. In questo modo i produttori e gli agricoltori possono evitare di usare questo prodotto. Siamo quindi protetti da minacce di brevetto o non siamo obbligati a dover pagare delle royalties, per esempio. invidio tutti voi che avete potuto parlare la vostra lingua madre, scusate se faccio fatica. Quando ci sono delle piante e dei materiali che sono protetti da un brevetto e se si toglie la tracciabilità, a quel punto tutti gli attori nella catena alimentare sono esposti a importanti incertezze legali. Per questo motivo questo ha un effetto su quello che noi possiamo o non possiamo fare con le nostre piante e con i nostri animali. Penso che ci possa essere un'importante restrizione di accesso all'incrocio traduzionale per le culture. L'innovazione invece dipende da una forma di proprietà intellettuale più leggera che consente la circolazione del materiale genetico secondo questa nuova impostazione. questo porterà a gravi conseguenze nel settore delle sementi. Mantenere la tracciabilità è il punto cruciale. Temo che questa proposta possa avere effetti negativi per gli agricoltori nel prossimo futuro e non sarà più possibile tornare indietro. Quindi la mia richiesta a tutti voi è per favore prestate massima attenzione su chi potrà vincere o perdere da questa proposta. Dal mio punto di vista, in quanto agricoltrice, l'accesso alle risorse genetiche, la preservazione di un pool genetico esente da modifiche genetiche o da diritti di proprietà intellettuale monopolistici e la capacità di cultura indipendente è fondamentale per il futuro. Quindi, per favore, non chiudete le porte verso il futuro dei futuri agricoltori. Tutti voi siete coinvolti. Questo è fondamentale. Riconsiderate quello che state facendo. Grazie. Grazie. Thank you so much. Grazie. Isabel Sommer Grazie La nuova direttrice della Swiss Alliance on Genetic Engineering alleata da tanto tempo. La Svizzera, mi scuso, come sapete è il paese della moratoria per gli OGM. Ma anche lì c'è un nuovo dibattito in corso sui nuovi OGM e sulla resistenza di questa moratoria a quanto sta succedendo per gli OGM. Quindi ascoltiamo Isabel. Grazie Benni, è un piacere partecipare anche se sono a distanza. Come ha detto Benni, sono Isabel Sommer, sono direttore della GMO Free Agriculture dell'Alleanza Svizzera. Abbiamo 25 istituzioni, più o meno 2.000 affiliati. In Svizzera c'è stata una moratoria che è in vigore dal 2005 per gli OGM dopo una votazione positiva sulla scorta di un'iniziativa popolare. Quindi gli organismi geneticamente modificati possono essere coltivati solamente per scopi di ricerca. Nel 2022 questa moratoria è stata di nuovo estesa e prorogata fino alla fine del 2025, ma il Parlamento svizzero ha mandato al Consiglio federale per elaborare una proposta legislativa entro il 2024 sugli NGT. Quindi pensiamo che questa scadenza in realtà adesso verrà estesa perché è molto rilevante per la Svizzera aspettare il nuovo atto legislativo europeo, ma siamo preoccupati perché probabilmente il Consiglio federale avanzerà una proposta molto simile a quella presentata dalla Commissione europea e quindi ci stiamo mobilitando. Abbiamo mobilitato più o meno 60 organizzazioni per partecipare al dibattito con un documento di posizione che chiaramente indica le nostre linee invalicabili. Le nostre richieste più importanti sono una normativa rigorosa degli NGT nell'ambito dell'ordinamento nazionale sugli OGM. È importante perché si chiede di disciplinare le cose al di fuori con delle misure specifiche sulla base dell'affermazione che gli NGT non siano OGM. Poi facciamo delle richieste sulla libertà di scelta, sulla trasparenza, sulla coesistenza, sulla responsabilità legale, sulla promozione di un sistema alimentare giusto dal punto di vista ambientale e sicuro per i consumatori. Una delle nostre commissioni parlamentari alla fine di quest'anno se ne occuperà come succede in Norvegia, anche la Svizzera seguirà e segue da vicino quello che succede nell'Unione europea e probabilmente seguirà quanto fa l'Unione europea. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti oggi per un'Europa esente da OGM perché quanto state facendo avrà un impatto su quello che succede da noi. Grazie. Grazie. La posizione dell'agricoltura biologica è già stata presentata, non è il caso di rispettere quello che è già stato detto, ma sono molto felice dopo questa conferenza, ve lo dico sinceramente, perché quando ci troviamo in Parlamento siamo un po' soli perché c'è una grande coalizione di conservatori, qualche volta aderiscono anche socialdemocratici, cara collega, è così, si dice adesso basta, bisogna essere di fianco alla gente che è più avanti sulle tecnologie, alla scienza nel mondo e quando guardiamo invece quello che è stato detto qui si vedono le cose che sono in preparazione, questi pomodori di cui si è parlato prima che avrebbero la proprietà di abbassare la pressione. I colleghi nella conferenza stampa hanno detto vabbè io ho la pressione bassa allora magari va bene, ma se non è così può essere pericoloso mi sembra ovvio, poi una insalata che non diventa più marrone, una banana che non invecchia, insomma che senso, abbiamo sempre sentito parlare di queste meraviglie tra virgolette, tutto in un nuovo imballaggio, le nuove OGM che sarebbe il futuro della scienza, però c'è un altro argomento che ovviamente è che chi è contro gli OGM è perché è contro la scienza, ma non è vero, tutta la scienza in Germania è contro le nuove tecnologie e quando si va a vedere chi le difende, tanti sì è vero, ma quelli che hanno un interesse economico, che magari hanno brevettato delle cose, quindi hanno un interesse diretto economico. Non si può dire che questa sia una scienza neutrale che interviene a nome di una più alta autorità, ma anzi molto spesso questa scienza è assolutamente fondata su interessi economici precipui e lo possiamo dire molto tranquillamente qua. Bisogna chiamare le cose con il loro nome, purtroppo noi non siamo in maggioranza e non veniamo sempre invitati da tutte le parti. Quando abbiamo una presentazione, sentiamo il Copacogeca, il Leopoldiner che dicono bisogna fare così e colà e noi non riusciamo a far invitare necessariamente i nostri esperti in queste riunioni. Alla fine quali sono i risultati? Che viene il Timmermans a fare dichiarazione in commissione o la signora Kyriakides e dicono vogliamo delle nuove tecnologie, ma certo questo è perché vogliamo ridurre i pesticidi. Francamente tutti e due hanno parlato di questo collegamento. e hanno detto guardate in America, guardate in Sud America o negli Stati Uniti e vedete che queste cose non funzionano, ma non ascoltano. Poi alcune persone hanno parlato del settore biologico, è ovvio, io ho lottato a lungo contro Hogan con Hannes quando si era parlato delle nuove tecnologie genetiche e abbiamo cercato di evitarlo, ma abbiamo un mercato con 16 miliardi nell'Unione Europea e prodotti senza OGM. C'è una differenza tra il settore convenzionale e quello non, ma noi chiederemo e spero che lo faremo insieme che ci siano delle valutazioni di impatto per capire anche qual è l'impatto economico sia sul settore del biologico che sul non OGM se si dovesse applicare questa normativa, perché ci saranno delle perdite economiche per il settore biologico, è ovvio, anche perché già bisogna lavorare contro i pesticidi e adesso ci saranno novità. E non è ammissibile che vadano così le cose, quindi proprio il settore del organic, del biologico, è un settore che va protetto e bisogna essere molto consapevoli di questo. E cosa vedo io nelle discussioni, nei dibattiti delle ultime settimane? Che manca un dibattito in società, perché qua vedo molte persone che sono oramai da lungo combattenti contro questo, ma a lungo non se n'era più parlato, ci sono nuove generazioni che parlano di cambiamento climatico, di scienza e dicono che bisogna usare tutto quello che si trova, non possiamo dire no agli OGM. Invece io credo che dobbiamo trovare un ponte, un dialogo con i consumatori, con gli agricoltori, in modo che non si possa celare tutto sotto la coperta del cambiamento climatico e non si possa dire che non ci sono rischi. Bisogna dire chiaramente che i rischi ci sono, anche se altri non condividono questo punto di vista. Io direi che tutto questo vada visto come un rafforzamento delle nostre posizioni. Noi siamo relatori Ombra, la Commissione Envy e questo ci conforta sulle nostre posizioni critiche, però abbiamo bisogno di un forte sostegno della società civile. Per fortuna che ci sono molte persone che non mollano, questa volta abbiamo avuto molti più partecipanti rispetto alla prima conferenza, dobbiamo preparare già quella successiva, non possiamo lasciar perdere. Io vi chiedo di portare questo messaggio all'esterno, di moltiplicare questo discorso in modo che la Commissione capisca bene che ci sarà un muro contro di lei se cerca di imporre queste cose. Il settore del biologico, il settore degli agricoltori e dei consumatori si ribelleranno. Diciamo che ancora non è stata detta l'ultima messa. Bisognerà cambiare le opinioni anche di tante persone che sono alla Commissione Agricoltura. Insomma, io ricordo e te lo ricorderai anche tu, nel 2003 quando si diceva no, non possiamo impedire niente, tanto sono cose che fanno tutti gli altri, anche in Europa saremmo soprafatti dalle OGM, ma possiamo invece essere molto orgogliosi, anche perché questo è stato un vantaggio per la nostra agricoltura. Noi non abbiamo scelto quella strada e non ci siamo lasciati buttare giù. Grazie. Grazie mille, Martin. Abbiamo sentito tante idee, tanti concetti, tante cose che ci possono anche incoraggiare. Abbiamo così qualche freccia in più al nostro arco per il dibattito. Vorrei ringraziare tutti anche perché ci sono state date informazioni nuove e importanti. Abbiamo sentito del fatto che la definizione degli MGT1 consentono che i pesticidi uccidano degli insetti, che si portino piante sul mercato che non sono etichettate rispetto alle quali non ci sono informazioni sulle quali non abbiamo la benché minima valutazione di rischio. Ringrazio tutti per i contributi veramente molto arrecchenti. Abbiamo sentito anche dalla Presidenza spagnola che un nostro nemico è il tempo che scorre, perché sia l'industria che i fautori di questa deregolamentazione puntano molto sul fatto che il tutto riesca ad essere passato con rapidità prima ancora che la popolazione se ne renda conto, che si possa votare tutto prima ancora che il dibattito possa volgere su questi temi e quando cominciano le campagne elettorali per le elezioni europee dell'anno prossimo e che alla fine si possa dire sì qui al Parlamento anche se sappiamo che una chiara maggioranza dei cittadini non accetterebbe mai una proposta del genere se fosse ben informata. Pensiamo al governo dei Paesi Bassi e quello che dice su queste tematiche e quanto invece abbiamo appena sentito rispetto alla posizione dei cittadini di quello stesso Paese e ci rendiamo conto qual è il problema, il pericolo concreto se infatti la discussione comincia, se il dibattito circola, se le persone si rendono conto di quello che qua cercano di far passare, di far votare, allora faranno fatica a far accettare queste proposte ecco perché subito dalla prossima settimana bisogna incominciare a farvi carico di diffondere questo discorso dove potete, quando potete. Ho visto che in Germania un'azione concertata con articoli è servita. Si è detto ci sono persone che sono contro le tecnologie genetiche e poi dicono che c'è un grosso dibattito anche tra i verdi, c'è chi sarebbe a favore alla tecnologia e alle tecnologie di modifica genetica e con questa campagna si fuorvia il lettore perché qua non si tratta di essere pro o contro l'uso di tecnologie genetiche in assoluto ma si tratta di capire se queste cose potranno essere riconosciute e viste in futuro o se sarà possibile nutrirsi senza tecnologie geneticamente di modifica genetica e senza avere OGM sarà possibile ancora offrire degli alimenti. È un dibattito molto diverso, questo è un dibattito che riguarda la trasparenza, che riguarda l'equità e la fiducia. Per chi è convinto che questi nuovi metodi CRISPR-Cas o gli altri tecniche genetiche vecchie possono dare un risultato così straordinario per aiutarci a contrastare la fame nel mondo, a mettere fine a questo oppure ad adeguarci al cambiamento climatico piuttosto ancora che per superare la crisi della biodiversità allora bisogna essere orgogliosi di dirlo in modo chiaro quello che si è detto qui perché chi cerca di fare le cose dietro alle nostre spalle sicuramente merita di essere oggetto della nostra sfiducia e si rende automaticamente poco credibile perché la trasparenza e la sincerità sono i prerequisite se ne qua non la società può capire quali sono le tecnologie che si possono adoperare, applicare, quali sono i rischi eventualmente che siamo anche disposti ad accollarci per evitare altri rischi più grandi però se si nega tutta questa sincerità e trasparenza la Commissione Europea e le maggioranze delle commissioni e i ministri dell'agricoltura come abbiamo sentito due giorni fa a Cordoba fanno quello che vogliono e non rendono un buon servizio a nessuno perché alla fine chi non ha nulla da nascondere non ha nessun bisogno di fare le cose in fretta e furia può fare con calma non ha bisogno di ribaltare tutta la normativa riguardante gli OGM eccetera se si è sinceri si trovano anche i compromessi poi alla fine per esempio su questioni come quali valutazioni del rischio vogliamo quali tecnologie sono antiquate e quali sono necessarie c'è chi pensa di doverci semplicemente schiacciare io credo che non ci riusciremo a schiacciare vi ringrazio veramente per la vostra presenza vi chiedo scusa per il fatto che c'è stato meno scambio con il pubblico di quello che avremmo voluto avere d'altra parte le tematiche erano interessanti i relatori anche e hanno avuto bisogno qualche volta di più tempo non solo due tre minuti è impossibile dire tutto in così poco tempo comunque penso che qui si cominci un nuovo dialogo avremo sicuramente degli scambi interessanti sulle tecnologie di modifica genetica ringraziamo anche i nostri interpreti un sentito ringraziamento anche a Benny e Helene per la preparazione di questa conferenza e naturalmente i nostri collaboratori che hanno aiutato a farlo grazie a voi perché ha funzionato tutto veramente bene ringraziamo corinna naomi akiko e tutti gli altri sebastian e insomma diverse altre persone che andrebbero ringraziate ringraziamo tutti per il sostegno per l'aiuto ringraziamo il gruppo dei verdi per il suo sostegno e saremo molto lieti di poter organizzare la prossima riunione delle regioni esenti da OGM magari anche con un miglior contributo del gruppo socialista grazie e buon rientro a tutti